Buongiorno a tutti, io sono Andrea Malchiodi e sono l'attuale direttore del centro di ricerca Ennio De Giorgi. Innanzitutto benvenuti a questo workshop e parlerò solo un minuto per dire due parole sul centro. Il centro De Giorgi è stato fondato circa vent'anni fa, formalmente come un laboratorio della scuola normale, ma con la missione di essere un centro di aggregazione per la comunità matematica pisana, che include anche molti colleghi dell'Università di Pisa, una comunità più piccola della scuola Sant'Anna. Infatti anche entrambe queste istituzioni, specie la prima, contribuiscono in maniera cruciale alle attività del centro e anche al supporto finanziario. Le attività principali del centro sono workshop, scuole, periodi intensivi di ricerca e è stata anche iniziata recentemente una serie di colloqui intitolati a De Giorgi, che si possono seguire online, quindi in caso foste interessati potete chiedere il link per seguirli. Ci sono posizioni da visitatori, posizioni brevi per svolgere research in PERS con supporto logistico da parte del centro e poi posizioni di due anni di post-hoc, che vengono bandite con cadenza annuale. Più o meno è tutto quello che avevo da dire, quindi ringrazio gli organizzatori per aver organizzato l'evento e anche lo staff del centro per il costante supporto e l'efficienza. Bene, vi ringrazio. Ok, ruberò anch'io solo due minuti all'inizio del convegno. Vorrei innanzitutto ringraziare il centro De Giorgi per l'ospitalità e l'aiuto nell'organizzazione, che è stato fondamentale, quindi ringrazio anche la segreteria del De Giorgi. L'idea del convegno è quello di riunire colleghi ma anche amici e creare un ponte tra i diversi gruppi Gnampa che lavorano su argomenti affini, come scopriremo appunto in questi tre giorni e questo era insomma il piacere nell'organizzazione di questo convegno e ne approfitto anche per ringraziare Paola e Alessandro per aver accolto la mia idea folle all'ultimo minuto dell'organizzazione. Bene, con questo introduco Martino Bardi come primo speaker della giornata e apriamo quindi il convegno. Grazie. Ok, allora quello di cui vi parlerò oggi è un lavoro in collaborazione con Icham Kuku che è un mio ex studente e adesso sta ad Aachen. Allora nel titolo ci sono due parole che mi premurerò di spiegare ai non esperti cioè giochi a campo medio e interazioni monotone o non monotone. Allora vi dirò di cosa si tratta tanto per capire, per inquadrare il problema. Ok, dopodiché toccherò tre tipi di giochi a campo medio che come vedrete coinvolgono l'equazione delle rete parziali quindi non è dei giochi veramente e cioè i giochi statici, i cosiddetti giochi con funzionale ergodico e i giochi a orizzonte finito e in particolare il collegamento tra questi tre gruppi di problemi. Ok, allora il punto di partenza di un gioco a campo medio è un funzionale, eccolo qua, che è il costo che un agente paga per stare nella posizione X se la popolazione degli altri agenti che lo circondano è M con momenti finiti, con primo momento finito. Quindi M è una misura di probabilità, ok, con X integrabile e F è dato, è un dato del problema. D'accordo? L'agente vuole minimizzare il suo costo. Il cosiddetto gioco a campo medio statico si formula così, la nozione di equilibrio nello spirito di Nash, anche se non è un gioco di quelli che studiava Nash, ma perfettamente nello spirito di Nash è seguente, una misura e un equilibrio se il suo supporto è contenuto nei punti di minimo della F rispetto a X se la popolazione si distribuisce come M barra. D'accordo? Il significato è che data una popolazione distribuita come M barra, a ciascuna gente conviene stare nel supporto di M barra, ok? Non conviene andarsene a spasso da altre parti, ok? Quindi è una nozione del tipo di Nash, cioè se gli altri non deviano dall'equilibrio, a nessun giocatore conviene deviare dall'equilibrio. Ok? C'è un'altra formulazione che è di tipo più variazionale che minimizzare, prendete l'integrale di F rispetto, calcolato in M rispetto a un'altra misura, l'equilibrio minimizza rispetto a questa misura. Ok? Questo è il gioco statico. Cos'è un gioco a orizzonte finito? Allora qua i giocatori si possono muovere, ok? Un intervallo di tempo 0T, ok? Pagano un costo proporzionale alla velocità, ok? E quindi c'è questo funzionale tipo calcolo delle variazioni, ok? Minimizzare la velocità al quadrato più il costo che deriva dall'essere in una certa posizione a un certo istante di tempo, supponendo nota per il momento la distribuzione dell'intera popolazione. Ho messo questi apici T perché, questa è la lunghezza dell'orizzonte, perché dopo studierò il limite per T che va infinito. Quindi ho esplicitato la dipendenza da T, che anche se di solito non si fa. Ok? Quindi questa U è la funzione valore se la popolazione è distribuita secondo la misura M. Ok? Ma cos'è un equilibrio in questo caso? Un equilibrio in questo caso è quello che succede, quello che si trova se data M, uno si determina la funzione valore, il controllo ottimo che realizza questa funzione valore è meno il gradiente della funzione valore. Questa è una cosa classica di calcolo delle variazioni. D'accordo? Allora, l'equilibrio è una coppia U-M tali che la U soddisfa questa equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman, che è quella corrispondente al problema scritto sopra, d'accordo? Dove compare nel lato destro la misura M, che è la distribuzione della popolazione. E M cosa soddisfa? M soddisfa un'equazione di tipo Fokker-Planck che descrive la propagazione della M seguendo il gradiente, meno il gradiente della U. D'accordo? Quindi le due equazioni sono accoppiate in questo modo. Notate che Hamilton-Jacobi è all'indietro con costo finale zero, ok? Non c'è nessun costo finale qua. E Fokker-Planck è in avanti con una condizione iniziale, con una distribuzione iniziale nota. Ok? Questo è un gioco orizzonte finito. Bene. Cos'è la monotonia dei costi? Allora, fino ai primissimi lavori che hanno iniziato la teoria, che sono di Lasry e Lyons, loro hanno introdotto questa, hanno proposto questa condizione, vedete, FxM1 meno FxM2 integrato rispetto a M1 meno M2 maggiore uguale di zero. È uguale a zero solo se le due misure coincidono. Questa è una specie di, dice che la F è crescente nelle due sostanzialmente, rispetto a prodotto scalare nelle due. Ok? È importante perché implica l'unicità del sistema che vi ho scritto prima. D'accordo? Quindi è stata usata unicità e anche tante altre proprietà. Il problema è che ha un significato molto preciso questa condizione, cioè che non conviene stare dove la popolazione è densa. Ok? Conviene spostarsi verso zone dove la popolazione è meno densa. Quindi, in altre parole, se assumete questa condizione, state modellando un problema in cui la repulsione è preferibile all'attrazione. Ok? Che va benissimo per certi tipi di problemi e non va bene per niente per altri, ovviamente. Ok? Largamente usata. Cosa succede? Che se la togliete può succedere tante altre cose. Ci sono tanti altri fenomeni che possono succedere. Possono succedere, beh, l'attrazione. L'attrazione può provocare oltre alla non unicità della soluzione, anche fenomeni blow up, cioè misure che sono singolari. Ok? Allora, in tutto il titolo è giochi a campo medio senza monotonia. Quindi noi non faremo mai ipotesi di questo genere in questa token. Nemmeno ipotesi di pura attrazione. Io lascio l'ipotesi che faremo. Permetteranno sia che sia preferibile attrarsi, sia che sia preferibile respingersi, a seconda di dove ci si trova nello spazio degli stati. Ok? Ok. Bene. Questo è per spiegare il titolo. Qual è il suo scopo principale? Il scopo principale è, dato il problema orizzonte finito, quindi quel paio di equazioni al primo ordine accoppiate, studiare il limite quando l'orizzonte T maiuscolo tende all'infinito, studiare il limite sia della misura, della densità della popolazione, sia della funzione valore 1. Ok? Sono ipotesi che adesso vedremo, naturalmente ci saranno delle ipotesi, anche abbastanza stringenti, però diverse da quelle di monotonia. Ok? In particolare, come uno si può aspettare da tanti problemi simili, già studiati in letteratura, c'è un collegamento tra il comportamento asintotico del DMT e UT con i cosiddetti giochi ergodici. I giochi ergodici non sto a darvi la descrizione in termini di gioco, vi scrivo direttamente le equazioni, che sono queste qua, la prima, vedete, è la versione stazionaria dell'equazione di Amito-Jacobi di prima, solo che adesso al posto della derivata temporale c'è una costante C, e questa costante C è un'incognita del problema. Ok? È un'incognita del problema. La seconda equazione è esattamente Fokker-Planck nel caso stazionario, senza la derivata temporale. D'accordo? La cosa interessante di questo tipo di problemi è che appunto C, tipicamente, molto spesso, questa C è unica, c'è un solo valore critico C che permette di risolvere questo problema. Adesso vedremo meglio questa faccenda. Ok? Quindi il concetto di soluzione per questo problema, che si chiama appunto gioco a campo medio ergodico, è di trovare una costante C, una funzione V che risolve il senso di viscosità alla prima equazione, e una misura M che soddisfa la seconda equazione. Ok? Il problema modello su cui sono costruite le ipotesi è una cosa di questo genere. Un funzionale costo che ha un pezzo che dipende solo dalla posizione nello spazio, ok? Moltiplicato per, non sommato, ma moltiplicato per un qualcosa che dipende invece dalla misura, e che sia abbastanza regolarizzante. D'accordo? Vedremo che faremo delle ipotesi per cui tipicamente la dipendenza dalla misura sarà di tipo non locale. Ok? Come per esempio una cosa del genere. E le motivazioni sono, beh, c'è un esempio, chi ha sentito qualche conferenza di Pierre-Louis Lyons sui giochi a campo medio, lui nelle prime 20-30 conferenze che ha fatto negli anni passati parlava sempre di questo modellino, dove metto, scusate, dove metto l'asciugamano sulla spiaggia. Arrivo sulla spiaggia e dove mi metto? Ok? Allora, lui tipicamente lo faceva sotto ipotesi di repulsione. Cioè, cerco di stare lontano dagli altri, non voglio sentire l'odore della crema solare al mio vicino. D'accordo? E quindi costo monotono. Ok? Noi invece non faremo quell'ipotesi di costo monotono. Ok? E un'altra motivazione è un lavoro precedente mio con Iciankuku, che collega l'ottimizzazione globale di una funzione F, di una funzione scalare di molte variabili F, con metodi di Emito-Jacobi, teoria del controllo ottimo. Ok? Quindi in questo contesto, diciamo, un'interpretazione potrebbe essere la ricerca dei minimi di una funzione F ad opera di una popolazione di agenti che non cooperano tra loro e che cercano di raggiungere il minimo di questa F minuscola. Ok? Però non entrerò in queste applicazioni, sono solo così. Le accenno come motivazioni di partenza. Sì, con lo stesso F. Con la stessa F. Adesso lo definisco subito tra un attimo in maniera precisa. Quindi sono tre giochi in gioco. Statico, ergodico e orizzonte definito. Ok? Ok, questa è una lista di lavori pertinenti collegati, non i primi della teoria. Quelli in rosso sono lavori proprio sul comportamento assintotico in tempi lunghi. Questo è una serie di lavori importanti di Cardalia Ghella, Sri Dionse e Porretta. Per Stochastic Mifil Games intendo che c'è un rumore che entra nella dinamica e quindi l'equazione di Amito Jacobi è parabolica, ok? E quindi anche Fokker Planck è parabolica, quindi i metodi sono completamente diversi. Nel caso deterministico, Cardalia Ghella ha studiato il comportamento in tempi lunghi sul toro con l'ipotesi di monotonia e Piermarco, Cannarsa, Cristian Mendico, Wang e Chen l'hanno studiato sempre con l'ipotesi di monotonia in tutto lo spazio, quindi senza compattezza dello spazio degli stati. Ok? Adesso non entro a descrivere tutti gli altri lavori. i giochi con aggregazione, per esempio, li sentirete raccontare da queste due autrici che parleranno tra oggi e domani. Bene, e questo è il lavoro con una delle nostre motivazioni, questo lavoro precedente sempre con il mio collaboratore, Iciam Kuku. Ok, bene, allora cominciamo a dire qualcosa di concreto. Allora, le ipotesi base sul costo, dorina avanti, saranno queste. Il costo dipende dalla posizione, X, e dalla misura che descrive la popolazione. Allora, come funziona la X, sarà sempre continua, per ogni M fissata. Come funziona la M? Supponiamo che sia continua, per X fissata, nel senso della metrica di Wasserstein 1, Cantorovici Rubinstein. Quindi operatori un po' regolarizzanti, d'accordo? Non operatori locali. Ok? E poi prenderemo un comportamento all'infinito di questo genere, che per ogni M fissata, il liminf del costo all'infinito è maggiore del minimo raggiunto in qualche compatto. Per cui, la una e la tre insieme mi dicono che per M fissata c'è sempre un minimo del costo. D'accordo? Ok? Allora, un primo risultato molto semplice è che sotto queste ipotesi c'è un equilibrio del gioco statico. Ok? Cioè, questa condizione che supporto di... C'è un M bar il cui supporto è contenuto nell'argming di F M bar. Ok? E questo non mi soffermo sulla dimostrazione perché è abbastanza standard nello stile di Nash perché usa il teorema di Cacutani. È un teorema di punto fisso. Ok? Qua non ci sono PD e quindi è meno interessante per questo audience, credo. Ok? Vediamo il gioco ergotico. Ok? Allora, qua l'ho riscritto. La prima equazione è un'equazione di tipo Hamilton-Jacobi molto classica. Vedete, la Hamiltoniana è quadratica, quindi l'equazione di Hamilton-Jacobi è molto classica. accoppiata con questa condizione sulla M. E la definizione precisa di soluzione è questa. È una tripla C V M con C costante, V soluzione di viscosità della prima equazione. E si richiede che il gradiente di V esista nel supporto della misura M e che la seconda equazione sia soddisfatta. Ok? Bene. Per gli esperti di teoria CAM, se non ci fosse la dipendenza da M, questo C è esattamente il valore critico della Hamiltoniana della meccanica. P quadro meno F è la Hamiltoniana della meccanica classica. Ok? Bene. Allora, questo teorema ci dice sostanzialmente questo. Che se c'è una soluzione del gioco statico, allora c'è anche una soluzione del gioco ergotico. Ok? Quindi l'ipotesi è che appunto ci sia una misura che soddisfa il supporto contenuto nella min, cioè il gioco statico. Prendiamo come costante C il minimo in X del costo per questa M, per questa M qua, allora esiste una V che completa la tripla e soddisfa il gioco ergotico. Ok? In più, questa V si può anche caratterizzare come l'unica soluzione di un'equazione di tipo iconale che è scritta qui sotto. Ok? Si può caratterizzare con unicità perché si vede che è zero su questo insieme e quindi c'è una condizione di Richelieu che ci permette di trovare l'unicità della soluzione. Ok? Quindi solubilità del gioco statico implica solubilità del gioco ergotico. Ok? Vabbè, vi risparmio la dimostrazione. Si basa... Ok, l'unica cosa non banale è far vedere che esiste il gradiente di V nel supporto di M. Ok? E per farlo abbiamo una formula di rappresentazione della soluzione come funzione valore. Gli unici punti non banali sono la frontiera di questo argmin. Ok? Dentro... Fuori dall'argmin M è zero. Non c'è niente da dimostrare. Dentro, nell'interno, anche lì la via è identicamente nulla. Quindi bisogna solo controllare che esiste il gradiente sulla frontiera dell'argmin di F. E questo si fa a mano con l'espressione esplicita della funzione valore. Ok? Si fa vedere che zero sta nel sopra nel sottodifferenziato. Ok? E quindi fin qua abbiamo che la solubilità dello gioco statico implica quella del gioco ergotico. Ok? Allora, in particolare, questo ci permette di fare degli esempi. In particolare, se chiamiamo int l'intersezione di tutti gli argmin al variare della misura, ok? Qua prendo l'argmin in X al variare di tutte le possibili misure. Se questa intersezione non vuota, queste sono ipotesi che fanno anche Carnarsa e Mendy con il loro lavoro, ok? Qualunque misura col supporto contenuto in questa intersezione risolve il gioco statico e quindi risolve anche il gioco evolutivo. Quindi esempi di questo tipo, F di X che moltiplica una G maiuscolo che è maggiore o uguale di zero, dove, ok, la F qua è nulla in un certo insieme dato, non negativa fuori, la G è non negativa fuori da B, allora questo insieme B sta in questo insieme intersezione e quindi posso produrre varie soluzioni, tutte le soluzioni che hanno il supporto contenuto in B. Ok? E un altro corollario è che sotto l'ipotesi standing, quello che ho chiamato A, se F è limitata, il gioco statico ed evolutivo sono entrambi risolubili. Ok. C'è anche un viceversa, il risultato precedente. Il risultato precedente diceva questa riga in blu. Statico risolubile implica ergodico risolubile. Si può anche far vedere il viceversa, cioè che effettivamente la risolubilità del gioco statico è necessaria perché sia risolubile il gioco ergodico. Ok? Quindi, vabbè, c'è questa quasi equivalenza tra i due problemi. Ok? Cerchiamo di arrivare alla parte più importante. Questa è una caratterizzazione delle soluzioni nel caso, in un caso particolare, su quale dopo tornerò, questo è il caso particolare in cui per ogni misura M, l'argmin è sempre lo stesso. Ok? Quindi, per esempio, F minuscolo di X che moltiplica qualcosa che dipende da M. In questo caso un po' speciale, però che può essere interessante, abbiamo che le soluzioni del gioco ergodico sono tutte sole quelle che hanno il supporto di M contenuto in questo insieme A. Ok? In particolare, se l'insieme A ha un singoletto, l'unica soluzione è la Dirac di delta, e c'è una specie di unicità della soluzione, che la misura è unica, è della delta di Dirac nel minimo, nel minimo di F maiuscolo, e poi la V abbiamo visto che è unica, se mettiamo un po' di condizione al bordo. Ok? Quindi, in questo esempio qui, su quale poi torneremo alla, che sarà poi quello che governa le ipotesi che verranno dopo, quindi F è identicamente nulla in questo insieme A, positiva fuori, e G positiva dappertutto, l'A c'è risolubilità del gioco ergodico, e caratterizzazione delle misure che lo soddisfano. Ok? Allora, veniamo finalmente al problema più importante, che è quello della sintotica in tempi lunghi. Ok? Allora, qua bisogna fare un pochino più di ipotesi, che sono prese dalle note di Pierre Cardagliaghe, che tutti quelli che studiano Minfield Games hanno studiato, e sono riprese anche dal lavoro di Canars e Mendico, cioè che F sia regolarizzante, che la F mandi ogni misura in qualcosa di classe C2, ok? Che sia l'ipsitz e non solo continua rispetto alle misure, sempre per la mezca di Wasserstein, ok? E infine che l'intersezione, almeno l'intersezione di Ergmin dei costi, al variare di m tra le possibili misure, sia non vuota. Ok? Quindi c'è qualche elemento dello spazio degli stati che sta nel minimo di qualunque densità di popolazione. Ok? Questo è il Minfield Games evolutivo che ho scritto prima, d'accordo? Hamilton-Jakobi all'indietro e Fokker-Planck in avanti con le condizioni backward-forward. Ok? L'ultima ipotesi è che la misura iniziale, la distribuzione iniziale, sia a supporto compatto e con densità e l'infinito. Ok? Bene. No, queste ipotesi sono tale quali anche sul lavoro di Canars e Mendico. Ok? Loro in più assumono la monotonia, come vi dicevo. Io assumerò invece qualcosa di più sull'argmin del costo. Ok? Allora, lo strumento principale per analizzare questi giochi a campo medio deterministici è di introdurre, di guardare questo problema di questa funzione valore, accorgeci che il minimo è raggiunto, esiste un minimo di questo problema di calcolo e variazioni. a questo minimo si può associare un flusso, quindi per ogni x c'è una soluzione y star che minimizza questo funzionale e si può definire un flusso e questo flusso, grazie alla seconda equazione del sistema minfield game, grazie a questa equazione qui, grazie a questa equazione qui, il flusso governa l'evoluzione della misura. Precisamente la misura al tempo t, al tempo s, e il push forward tramite questo flusso della misura mz. Quindi studiando le traiettorie ottime di questo problema, si può capire come evolve la misura iniziale nel tempo. Ok? E infatti noi useremo strumenti di quel genere. Bene. Il primo lemma è semplicemente un lemma di compattezza che dice che se fissiamo un parametro s tra 0 e 1 e andiamo a guardare, vedete, la soluzione del sistema con orizzonte tn al tempo s tn. Quindi s per tn è un qualunque tempo tra 0 e tn. Però fissiamo s e facciamo variare tn in questi due slot. D'accordo? Allora, questo è un lemma di compattezza che dice che questa famiglia di misure converge da ebola stare a qualcosa che dipende dal parametro s. D'accordo? Poi la f è continua nella seconda variabile, quindi c'è anche la convergenza della f. Questo si basa su stime che ci sono già nel lavoro di Cannarsa, noi le abbiamo tranquillamente utilizzate, e di limitatezza, scusate, di limitatezza delle traiettorie ottime, uniforme, limitatezza delle traiettorie ottime e anche delle loro velocità. Ok? Inoltre che, diciamo, il supporto della misura rimane limitato per intervalli di tempo limitati. D'accordo? Allora, queste stime con teoremi classici di compattezza tipo Prokhorov vi danno questa convergenza. Ok? Fin qua, ripeto, sto usando cose già fatte in precedenza. Ok? Quindi c'è compattezza, però quello che interessa è capire chi è la misura limite. Questa è la parte interessante della faccenda. Bene. Allora, definiamo come questo A corsivo l'unione di tutti gli argmin dei costi. Ok? Prendiamo l'argmin del costo al variare della M e prendiamo l'unione di tutti questi insiemi. Lo chiamiamo A. Chiamiamo D la distanza da A e questa è un'ipotesi semplicemente che dice è una specie anche questa di coercività simile a quella che avevo mostrato prima che dice che la F rimane distante abbastanza distante dal minimo se X è distante da questo insieme A. Lo fa in maniera uniforme rispetto a M. C'è questo gamma di R che dipende solo dalla distanza da A ok? È positivo che mi dice che mi dà un bound da sotto della differenza tra F e il suo minimo. D'accordo? Ok. Bene. Allora, la prima proposizione è che sotto le ipotesi che ho elencato A, B è quest'ultima è quest'ultima questa è una prima proprietà vedete del limite M barra di S guardate guardate eccolo qui allora questo limite M barra di S è l'oggetto che vogliamo studiare cosa dice questa proposizione? Che il suo supporto è senz'altro contenuto in questo A nell'unione di tutti gli argmin è un'informazione ancora non tanto ricca però non è banale si dimostra usando le misure occupazionali e vabbè non voglio entrare nella dimostrazione perché non ho il tempo d'accordo? Quindi prima proprietà che riguarda il supporto del limite di queste delle misure adesso vedete questo insieme A potrebbe essere una cosa potrebbe essere tante cose facciamo un'ipotesi un po' più forte su questo insieme A l'ipotesi più forte che facciamo che è abbastanza forte in effetti è che l'unione di tutti gli argmin dei costi a variare di M è uguale all'intersezione a variare di M che è lo stesso che dire che tutte le misure M se io guardo il loro costo F questo costo è sempre lo stesso minimo gli stessi minimi insieme dei minimi e variare di M è sempre lo stesso quindi di nuovo una F minuscolo di X per una funzione G di M che non svanisce che non si annulla ok? allora sotto questa ipotesi ulteriore sotto questa ipotesi ulteriore beh vedete è abbastanza facile capire la proposizione precedente mi diceva che il supporto del limite è contenuto in A ma A adesso è uguale anche all'intersezione di tutti gli argmin quindi il supporto della misura limite sta nell'argmin del costo di se stessa dunque è una soluzione del problema statico e dunque è anche una soluzione del problema argotico ok? quindi questo è quello che dice il teorema oltre ad essere precompatta questa successione di misure ogni qualunque suo limite su qualunque successione che va in TN che va in infinito risolve il gioco statico e di conseguenza pur di prendere C e V in maniera opportuna risolve anche il gioco argotico ok? questo è un primo collegamento che riguarda il limite delle misure e il collegamento col gioco argotico ok? adesso vogliamo studiare la convergenza delle UT pur che cacca è tardi ok? la convergenza delle delle funzioni valore per farlo facciamo ancora un'altra ipotesi che però è sempre nello stesso spirito delle precedenti cioè che il minimo del costo la variata di M non solo sia raggiunto nello stesso insieme ma sia sempre lo stesso sia questo sia un certo C star ok? quindi tutte per ogni misura la F è sempre lo stesso minimo ok? bene allora il primo risultato è questo che la funzione valore la soluzione della prima equazione del sistema divisa per la lunghezza dell'intervallo di tempo tende a C star e C star è proprio il valore critico del problema argotico questo è esattamente nello stesso spirito della teoria cam debole o del controller godico è quello che uno si aspetta dal controller godico classico la differenza è che qui c'è una dipendenza dalla misura c'è la dipendenza dell'intera popolazione che nel controller godico classico non c'è d'accordo? ok? e c'è anche una stima precisa insomma abbastanza precisa di come UT converge al valore critico C star ok? abbiamo anche una stima del tasso di convergenza di UT diviso T a C star S è un parametro ok? è un numero tra 0 e 1 quindi non preoccupate di tanto di questo S per il momento quindi UT meno C star va a 0 come 1 su T questo è leggermente sorprendente perché nei lavori di Cardagliaghe Cannarsa Mendico eccetera con tutta altra ipotesi la convergenza è al massimo 1 su radice di T quindi qui qui per motivi diversi la convergenza è molto più veloce ok? adesso cosa manca in questo quadro? abbiamo uno collegamento tra il problema evolutivo e il problema ergodico a livello della costante critica C star ma fino adesso non è entrata in gioco l'altra componente del problema ergodico cioè la funzione V d'accordo? allora il collegamento completo tra il problema evolutivo e il problema ergodico che uno spererebbe sarebbe una sintotica di questo genere cioè che UT ok? UT diviso T tende a C star se io faccio invece UT meno C star per T qual è il limite? beh il limite dovrebbe essere proprio la funzione V che risolve il sistema ergodico questo gruppo questo accade nella teoria camdebole senza popolazione con popolazione costante d'accordo? perché uno se lo aspetta anche qui perché? perché se uno considera questa funzione WT questa funzione W che è dentro la parentesi qui dentro quindi U meno C star per T va a guardare l'equazione che soddisfa gli viene fuori un conto immediato questa equazione qua l'equazione vedete evolutiva rispetto al parametro S qua il parametro S comincia ad avere un ruolo non banale ok? l'equazione evolutiva rispetto al parametro S questo primo termine in verde è diviso per T quindi mi aspetto che per T che va all'infinito sparisca e mi aspetto che al limite rimanga solo C star quindi se W converge a una qualche V tilde se il lato destro converge a qualcosa ok? mi aspetto che al limite ci sia C star più la Miltoniana più la F è calcolata nella misura limite M barra adesso questa è l'equazione iconale che abbiamo visto prima la condizione del contorno si vede facilmente che verificata per unicità questa V tilde deve essere proprio la soluzione V del problema questo sarebbe quello che uno vorrebbe fare ok? ma c'è un problema il problema è che le misure MT convergono solo debolmente star a questa M barra di S e non è affatto chiaro che ci sia una qualche forma di uniformità in S se non c'è uniformità in S questo passaggio al limite vedrete si può fare solo in maniera molto debole ok? allora vorrei avere forse ancora mezzo minuto vi faccio vedere quello che riusciamo a fare quello che riusciamo a fare su questo tipo di convergenza è nel caso in cui il l'argmin delle misure sia un singoletto quindi la funzione F minuscolo vi ricordate se il nostro costo era F grande è F minuscolo della sola X per una G di XM ok? questa G è sempre maggiore di 0 F è maggiore uguale di 0 supponiamo che sia nulla in un punto solo F minuscolo quindi c'è un solo punto di minimo per tutte le misure ok? allora c'è un'unica misura che risolve il gioco statico ed è la delta di Dirac in quel punto di minimo X star bene no? in questo caso lo sviluppo asintotico che vi ho enunciato nella slide precedente e vi ho proposto nella slide precedente effettivamente corretto ok? se sottraete a U C star per T il limite è proprio la soluzione V del del sistema argotico ok? V si può caratterizzare in questo caso l'equazione iconale è molto semplice in tutto il REN meno questo punto X star e nel punto X star c'è la condizione di risceguo e l'idea è quella della prima della precedente slide ok? bene credo di essere fuori di due minuti quindi ok la dimostrazione la fa mostro a chi vuole l'idea della dimostrazione usa ovviamente la metrica di Cantor Luigi Rubinstein e c'è un risultato debole nel caso generale ma dove vedete il lato destro non è più è un risultato che riguarda i semi limiti rilassati e dice che solo che sono rispettivamente sopra e sotto soluzioni due equazioni approssimanti insomma è un risultato che non implica la convergenza uniforme però stabilisce un collegamento tra il problema evolutivo e il problema ergotico ok grazie 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 martino per il talk molto interessante e domande commenti fabio forse me la sono persa nel talk hai una condizione che ti garantisce che le traiettorie ottime non scappano all'infinito sì 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 allora fin dall'inizio c'è questa condizione se vuoi di coercività debole cioè che questa vale per tutto il talk ed è la stessa che fanno peraltro anche Canarsa e Christian ed è ed è questa qua ok che l'IMINF dei costi qualunque sia M l'IMINF dei costi all'infinito è maggiore del minimo in un qualche compatto ok e poi l'ho leggermente rafforzata chiedendo che questo compatto sia e anche questo gap sia uniforme rispetto a M d'accordo questo evita che le traiettorie questo fa sì che le misure rimangano limitate e le traiettorie non scappano all'infinito se cerchi i minimi rimani dentro dentro questo K0 cerchi di entrare in K0 e poi ci rimani e sì questa è importante se no può succedere qualche cosa altre domande questa cosa non funziona oppure qualcosa si può fare lo stesso x meno la media di M al quadrato perché sembrerebbe che non va bene perché è un momento finito ma il momento non è limitato uniformemente però siccome è una cosa è un termine quadratico che si vede spesso anche in qualche modello magari è una cosa specifica che qualche tecnica potrebbe conservarsi me lo chiedo no non ce lo siamo abbiamo appena finito questo lavoro abbiamo caricato il preprint settimana scorsa quindi mi fa molto piacere di parlarne qui e gli esperti che mi facciano le domande direi che non soddisfa le ipotesi possiamo pensare a cosa che varianti si possono fare quello effettivamente è un caso che può essere interessante altre domande ne ho una io veloce ne abbiamo già tu sei super esperto ne abbiamo già discusso un pochino quindi volevo un po' capire com'era andata a finire che cosa succede quando ho più di un punto di minimo all'interno dell'Armin ADF al momento non siamo allora al momento se c'è un su allora tutto vale se ci sono se l'insieme allora questo insieme A che è l'intersezione che al tempo stesso è l'intersezione dell'unione degli Armin quindi che è l'insieme diciamo che questo insieme A è l'attrattore se volete delle traiettorie ottime d'accordo e dell'Armin in DF qualunque sia M a priori è un qualunque chiuso limitato altrimenti la condizione all'infinito non è soddisfatta questo è un qualunque chiuso limitato ok allora se è un singoletto abbiamo un risultato migliore che è quella sintotica completa se non è un singoletto ma anche fatto da solo due punti al momento ho pensato un po' qualche giorno dopo aver scritto a te non so come migliorare il risultato se è fatto con un numero finito di punti se è fatto con un numero finito di punti ci si può aspettare che le cose vadano meglio però per il momento non sono in grado di dirti niente quindi o è qualunque cosa e allora vale questo risultato generale e per le per l'assintotica quella completa vale questo fatto che i limiti deboli di quella differenza sono sopra e sotto soluzioni di queste equazioni qua se è un singoletto invece si ha la convergenza uniforme che è questa questa roba qui se è fatto di due punti non lo so al momento ma ci penserò perché è interessante grazie grazie se come no prego sconto le cose dovrebbero essere più facili di solito no? però ecco c'è qualcosa penso che non disturbi aggiungere un fattore di sconto al funzionale di solito migliore appunto mi chiedevo se sì se in queste perché ci sono quali proprietà che si usano quelle di turnpike o cose del genere di solito hanno il fattore di sconto sarei occhio tenderei a pensare che è più semplice di quello che avete fatto voi però c'è un aiuto in più diciamo sì non mi è chiarissimo che c'è il problema emergotico che è l'associato rimane rimane un lambda rimane un lambda un premier gotico che è l'associato è una cosa che non è stata molto studiata cioè perché di solito o uno allora se uno mette il fattore di sconto fa andare il fattore di sconto a zero e ritrova il problema emergotico fare a sintotini nei tempi lunghi conservando la lambda positivo una cosa studiatissima però effettivamente ci dovrei pensare non voglio dire una stupidaggine quindi mi riservo di rispondervi forse Andrea vuol dire la soluzione è unica che non ci conosce Andrea forse almeno nel caso senza misura tu sei del problema la soluzione è unica del problema con fattore di sconto dovrebbe essere più semplice di mostrare la convergenza perché sì se è veloce veloce sì questa cosa è il fatto che viene uno su t invece di uno su radice di t ma è legata a una proprietà di regolarità ulteriore tipo di semiconcavità o o della soluzione o c'è cioè perché è strano diciamo insomma uno su radice di t è un po' no è che è una cosa classica la convergenza nel loro problema è in questo è completamente diverso cioè le stime le stime di compattenza sono le stesse ma poi la convergenza è completamente diversa cioè loro la recuperano loro hanno un'ipotesi abbastanza loro passano al limite di questo termine grazie a queste ipotesi di monotonia forte e anche leggermente rafforzata una monotonia stretta quantitativa diciamo e quindi riescono a passare al limite lì però quella usare quella ipotesi gli costa questa radice che salta fuori noi invece lavoriamo sui sui sugli argomini delle misure diciamo quindi la situazione è completamente diversa quindi sostanzialmente è una stima di interpolazione cioè interpolando la monotonia con delle stime l2 esce quella radice in realtà per una dimensione generica il fattore è 1 su 1 più di quindi dipende dalla dimensione mentre in questa dimostrazione si passa al limite delle misure e la f converge perché continua a rispettare le misure appunto quindi non c'è un argomento completamente diverso ringraziamo ancora Martino ok proseguiamo con il prossimo speaker della prima sessione e Daria Ghilli prego grazie grazie Cristian grazie per l'invito molto piacere essere qui con voi c'è stato un piccolo cambiamento all'ultimo minuto dell'argomento perché avevo già parlato ad alcuni di voi dell'argomento di cui volevo parlare però parlerò comunque di minfield game di tipo non monotono e con applicazioni in economia quindi spero possa essere interessante can I switch to english do you prefer italian meglio italiano vabbè proviamo ok allora come vado no vabbè proviamo sono abituata in inglese ma vediamo allora quindi parlerò parlerò di un modello in economia minfield game in economia in cui gli agenti sono caratterizzati da due variabili la posizione e soprattutto dal livello di capitale umano quindi capitale umano è la variabile chiave del modello in particolare cos'è capitale umano per noi ci sono diverse definizioni per il capitale umano per noi il capitale umano sono le abilità e la conoscenza acquisita da un individuo accumulata da un individuo durante la vita il modello economico è stato sviluppato con contribuzioni con diciamo tramite contribuzioni di Fausto Gozzi che è qui la LUIS Davide Fiaschi dell'Università di Pisa e Giorgio Fabri dell'Università di Grenoble io parlerò della diciamo l'argomento è stato è molto interessante sia dal punto di vista delle applicazioni economiche che dalle difficoltà matematiche come vi farò vi spiegherò abbiamo avuto qualche difficoltà a risolvere il modello originale e abbiamo dovuto fare diciamo assunzioni come primo primo assunzioni ulteriori come primo step vi spiegherò e vi parlerò della parte matematica poi abbiamo anche applicato questo modello economico a un'evoluzione di un'epidemia in cui l'epidemia il tasso di infezione dell'epidemia dipende dalla distribuzione che è data dal nostro modello economico e abbiamo diciamo sottomesso a economic theory i risultati invece di questo che degli argomenti di cui parlerò oggi sono in procinto di sviluppo un preprint sarà pronto a breve allora il modello innanzitutto abbiamo i nostri agenti che possono decidere due cose possono decidere la posizione nello spazio e il livello di investimento nel capitale umano quindi parte del capitale umano è usata per il consumo ah grazie per il consumo quindi parte del capitale umano viene utilizzata per il consumo e parte viene utilizzata per accumulare nuovo capitale umano ovviamente gli agenti hanno un obiettivo quindi una certa utilità da massimizzare la caratteristica importante del modello è che ci sono interazioni spaziali cioè gli agenti interagiscono tramite il capitale umano stesso questo in economia spesso è normalmente chiamato denotato con il termine spazio spillover cioè spillover è l'influenza che una variabile ha su un'altra variabile in questo caso la posizione degli agenti che ha sul livello di capitale umano di un altro agente quindi l'obiettivo finale del modello è di studiare gli effetti delle abilità sulle abilità di ciascun individuo causati dalla vicinanza di altri individui abbiamo assunzioni di simmetria quindi il termine interazione e l'utilità sono gli stessi per ogni agente weak interazione debole quindi le scelte degli agenti non influenzano le scelte degli altri ma la distribuzione totale ha un impatto e ovviamente aspettative razionali delle agenti stessi siamo interessati ai equilibri di Nash quando il numero di giocatori è diciamo molto alto e quindi studiamo il sistema minfield gain che emerge quando il limite del numero degli agenti va infinito e che prendiamo diciamo come approssimazione macroscopica del modello discreto a n agenti ora il nostro sistema minfield gain che studiamo è molto non standard cioè non monotono e la miltoniana rispetto al gradiente della distribuzione non è separabile inoltre non abbiamo unicità della soluzione dimostriamo esistenza abbiamo anche provato a dimostrare unicità per tempi brevi ma per la struttura particolare della miltoniana che abbiamo non siamo riusciti quindi tutto ciò per farvi capire che il risultato di convergenza del modello discreto a n agenti al modello continuo per ora non è diciamo l'abbiamo rimandato a futura ricerca non siamo non siamo riusciti a farlo e quindi prendiamo il sistema minfield gain come limite che ci aspettiamo del modello discreto a n agenti allora più in particolare cominciamo dal modello discreto quindi abbiamo n agenti distribuiti in spazio nello spazio il dominio dello spazio è il toro unidimensionale S1 e l'equazione per la posizione che sarà x i è una semplice equazione di questo tipo quindi questa equazione è molto semplice molto standard alfa i è il controllo sulla velocità abbiamo un rumore positivo epsilon e il moto broniano l'equazione caratteristica del modello la più difficile da studiare è quella che riguarda l'evoluzione del capitale umano in particolare l'equazione è questa S qui che sta in 0-1 è il controllo quindi S per H l'alfa è la quantità di capitale umano usata per accumulare nuovo capitale umano e poi abbiamo questo F grande che è il termine di interazione spaziale F grande andiamo a vedere definito qua dipende dalla posizione dell'agente iesimo e dalla misura empirica in particolare è una media che dipende dalla posizione i questa eta qui prendetela moralmente come la funzione indicatrice di una palla con origine 0 quindi cosa succede al numeratore se il giocatore j è abbastanza vicino al giocatore i questo fa 1 e quindi sommiamo il capitale umano del giocatore j quindi in sostanza stiamo sommando i capitali umani dei giocatori vicini al giocatore iesimo e poi dividiamo semplicemente per la somma dei vicini questo esponente lambda in rosso qui è molto interessante perché abbiamo identificato comportamenti diversi in base a dove sta lambda quindi abbiamo identificato un threshold per lambda per cui abbiamo comportamenti diversi nel modello e in particolare lambda misura l'effetto dell'aggregazione cioè se lambda è grande vuol dire che gli agenti vicini contano poco ora noi abbiamo studiato in particolare il caso lambda uguale 1 e vi farò vedere le equazioni che ci aspettiamo per valori diversi per lambda diverso da 1 se non lo specifico lambda sarà sempre uguale a 1 andiamo a vedere cosa succede al termine di interazione al limite per il numero degli agenti che va infinito quindi f dipende da x e dalla distribuzione m è l'integrale sul dominio di x cioè s1 e il dominio del capitale umano che è r più quindi il capitale umano è maggiore di 0 e illimitato di cosa di eta in x meno y per k che è la variabile del capitale umano per m integrato in dy di k e sotto dividiamo semplicemente per l'integrale di eta per m questo in particolare da notare non è monotono rispetto alla distribuzione Martino ha già definito cosa vuol dire di monotonia quindi non lo ricorderò sì qui allora ho riportato la versione discreta proprio per fare un paragone è una variabile che sta per il capitale umano perché sopra stiamo sommando i capitali umani degli altri giocatori quindi poi integriamo sul dominio del capitale umano k quindi integriamo in dy di k dy sta per la variabile che sta in s1 e di k torniamo però un attimo all'equazione per capitale umano del capitale umano perché ci sono altre difficoltà che vorrei mettere in risalto in particolare questo h all'alfa ora alfa qui è un esponente che sta in 0,1 quindi questa dinamica è older continua non è continua secondo Lipschitz e questa è una grande difficoltà che abbiamo incontrato nella risoluzione del mythic game vedremo poi abbiamo qui z z semplicemente un tasso di depreciamento e poi chi un rumore positivo inoltre questa parte qua come vedete può degenerare in h uguale 0 in particolare degenera sul boundary del dominio per h ultima osservazione questo alfa più xi deve essere minore di 1 questa è una funzione di tipo economico in particolare vuol dire che abbiamo decrease in return to scale inoltre infine il capitale umano è illimitato e anche questa è una difficoltà che abbiamo dovuto gestire ora cosa fanno gli agenti gli agenti ottimizzano la seguente funzionale utilità a orizzonte finito per il momento quindi integriamo da t0 a t grande abbiamo un fattore di sconto e abbiamo questa utilità u sigma che è definita qui è un'utilità tipica in economia di tipo ara cioè semplicemente z alla 1 meno sigma ha fatto 1 meno sigma e sigma l'abbiamo preso in più piccolo di 1 l'argomento dell'utilità u sigma è tutto questo cosa abbiamo abbiamo una funzione a della posizione a è semplicemente la funzione di produzione o i servizi e poi abbiamo questa parte 1 meno s h alla alfa che è il consumo quindi è la parte di capitale umano che è usata per consumare la restante parte di capitale umano che non è usata per accumulare nuovo capitale umano e poi abbiamo il termine interazione che rappresenta gli spillover spaziali sul consumo stesso inoltre infine una penalizzazione che però come vedete è molto standard del controllo sulla velocità in particolare qui per semplicità è presa semplicemente il quadrato del controllo si può generalizzare a penalizzazioni più di tipo convesso e regolare ok una una brevissima richiamo a diciamo a come emergono come emerge il sistema minfield game qui abbiamo abbiamo i che gli agenti sono indistinguibili quindi possiamo scrivere la dinamica del giocatore tipico che nel nostro caso è la seguente prendiamo una distribuzione m per il momento fissata a priori e esogena cosa succede da una parte abbiamo il problema di ottimizzazione dell'agente che ci dà una funzione valore che chiamo u questa funzione valore è soluzione in un'equazione di Hamilton-Jacobi che dipenderà da m se poi la funzione valore è abbastanza regolare ci possiamo trovare i controlli ottimali alfa star e s star come derivata rispetto alla Hamiltoniana rispetto alla derivata rispetto alla variabile gradiente della Hamiltoniana d'altro canto se scriviamo se prendiamo la legge del processo xh la chiamo mu questa mu è soluzione di una Fokker-Planck un'equazione Fokker-Planck il cui drift sarà proprio il controllo alfa s cosa vuol dire cercare equilibri in hash cercare equilibri in hash vuol dire imporre che la legge del processo ottimale sia proprio uguale alla distribuzione da cui siamo partiti questo ci dà un sistema che è il sistema minfield game in cui la Fokker-Planck la soluzione della Fokker-Planck è la M e il drift saranno i controlli ottimali alfa star e se star e la soluzione è la Hamiltonian e la U che dipende dalla distribuzione M che stavolta è soluzione della Fokker-Planck ok quindi andiamo a cose diciamo ai dettagli più tecnici per prima cosa abbiamo dimostrato le proprietà di regolarità del termine di integrazione di interazione in particolare abbiamo che F è limitato dal basso quindi è maggiore di zero e è limitato dall'alto da una costante che dipende dal momento primo di mu inoltre abbiamo che F preso come funzione di X è Lipschitz con una costante di Lipschitz che dipende sempre dal momento primo di mu queste due proprietà sono importanti per mostrare regolarità della funzione valore e poi infine abbiamo che F preso come termine di interazione preso come funzione della distribuzione è localmente Lipschitz uniformemente rispetto a X e questa è una proprietà che ci serve per dimostrare unicità della Fokker-Prank altre proprietà abbiamo una formula esplicita per il processo H per il capitale umano che non riporto qui perché è un po' lunga e complicata ma che ci permette poi di dimostrare altre stime in particolare continuità rispetto ai dati iniziali di questo tipo e anche questa proprietà c'è di aiuto per dimostrare regolarità della funzione valore primo obiettivo è studiare il problema di controllo ottimo quindi identificare la funzione l'equazione di Hamilton Jacoby Bellman che è la seguente cosa abbiamo possiamo identificare due parti distinte una parte che dipende dalla variabile X dalla posizione che è molto standard il quadrato del di X V più una parte uniformemente parabolica mentre la parte che è relativa che è legata al capitale umano è quella più che ci dà più problemi in particolare può degenerare il termine del secondo ordine può degenerare in H uguale 0 e poi abbiamo questa miltoniana che chiamerò H1 che è definita nel seguente modo è diciamo una miltoniana standard in controllo ottimo quindi abbiamo in particolare che il drift qui vedete è il drift del processo H e dipende dalla distribuzione M bene quindi allora primo risultato che è abbastanza standard c'è la dimostrazione abbastanza standard si basa sui lemmi che vi ho fatto vedere prima è che la funzione valore è soluzione dell'equazione di Hamilton Jacoby-Bellman e se M la distribuzione è continua o del continua rispetto a T allora abbiamo anche regolarità C2 1 della funzione valore secondo obiettivo identificare l'equazione di Fokker-Planck quindi cosa facciamo qui riscrivo riprendo un attimo per un momento il termine di interazione con l'esponente lambda che quantifica l'aggregazione ripeto prendiamo la misura empirica definita come usualmente e vogliamo trovare un'equazione per questa distribuzione quando il numero delle agenti va infinito vi risparmio i calcoli cosa cosa troviamo troviamo un threshold lambda uguale 1 quindi per lambda uguale 1 troviamo queste equazioni di Fokker-Planck che ha un termine del secondo ordine che può degenerare sul bordo e poi ha un termine del primo ordine rispetto alla x con controllo ottimo di xv come al solito per il minfield gain e poi un termine del primo ordine rispetto a h con controllo ottimale quindi drift la derivata rispetto a p alla variabile gradiente della miltoniana h1 cosa succede se lambda è maggiore di 1 quindi se lambda è grande gli agenti vicini contano meno quindi ci aspettiamo che il termine di interazione scompaia e in effetti il limite per lambda maggiore di 1 è proprio l'equazione di Fokker-Planck senza l'ultimo termine quindi senza il termine di interazione che succede se lambda è migliore di 1 questa è una grande domanda in realtà non riusciamo nemmeno a identificare il limite quindi l'equazione limite ci aspettiamo un comportamento diciamo in qualche modo di tipo bang bang e questo anche questo è un argomento che abbiamo lasciato per ora a sviluppi di ricerca futuri prendiamo d'ora in poi lambda uguale 1 quindi studiamo queste equazioni di Fokker-Planck il sistema minfield game che emerge da una procedura di punto fisso quindi supponiamo di partire da una distribuzione m il giocatore tipico gioca quindi ottimizza il suo funzionale denotiamo tramite mu la densità risultante a equilibrio m deve essere uguale a mu quindi il sistema minfield game che risulta da questa procedura è il seguente dove abbiamo esattamente le equazioni di Hamiltonian di Hoppe di Fokker-Planck che abbiamo appena visto quali sono le difficoltà e i punti non standard di questo sistema innanzitutto la miltoniana non è separabile quindi non si può scrivere come una somma di una miltoniana rispetto al gradient che dipende solo dal gradiente più un coupling che dipende dalla distribuzione in particolare vedete bene qui che la miltoniana H1 ha dipendenza dalla distribuzione nel termine di interazione non è di tipo monotono come abbiamo sì sta tra 0 e 1 ora su questa cosa ci suonerò molto non abbiamo monotonia rispetto alla distribuzione perché il termine di interazione non è monotono e poi qui vedete in rosso abbiamo una dinamica non lipchitz del capitano umano in particolare come diceva Paola quell'alpha sta tra 0 e 1 quindi abbiamo solo continuità secondo holder che difficoltà ci dà questo beh questo è un grande problema per noi perché non riusciamo a dimostrare l'unicità dell'equazione di Fokker-Planck in particolare non riusciamo a mostrare l'unicità dell'equazione Macking-Blasov associata con coefficienti di tipo holder non abbiamo unicità dell'equazione di Hamilton-Jakobi nemmeno per vari problemi perché abbiamo un constraint abbiamo che l'equazione degenera sul bordo abbiamo non abbiamo coercività rispetto al gradient e la dinamica del capitale umano è limitata e holder tutte queste difficoltà non ci hanno potuto non siamo riusciti a dimostrare l'unicità e poi come già detto abbiamo il constraint abbiamo che l'equazione degenera sul bordo e l'illimitatezza del capitale umano siamo riusciti a risolvere tutte queste difficoltà eccetto il fatto che non abbiamo unicità della Fokker-Planck e quindi per ora abbiamo fatto un'assunzione ulteriore come primo step ci auguriamo poi di risolvere il caso originale in cui abbiamo sostanzialmente regolarizzato la dinamica del capitale umano prendendo una F di H F Lipschitz in particolare cosa potrebbe essere potrebbe essere H vicino a 0 lineare vicino a 0 e poi la nostra H all'alfa bene con questa assunzione arriviamo al risultato abbiamo esistenza di una soluzione del minfield game in particolare la funzione valore è di regolarità C2.1 e la distribuzione è C0 da 0T in P1 questa assunzione qui che vedete sul momento secondo è un'assunzione tecnica che ci serve per limitare i termini di gradiente della Miltoniana che appaiono nell'equazione di Fokker-Planck come abbiamo dimostrato l'esistenza tramite un argomento classico di punto fisso quindi partiamo da una distribuzione mu li associamo alla soluzione dell'equazione di Hamilton-Jacobi troviamo una soluzione M della soluzione di Fokker-Planck e vogliamo che questa mappa abbia un punto fisso come si dimostra il punto fisso bisogna dimostrare la continuità della mappa innanzitutto buona definizione della mappa e poi continuità per la buona definizione è fondamentale avere unicità delle PDE quindi sia dell'Hemmin-Jacobi sia della Fokker-Planck come risolviamo il problema dell'unicità della Fokker-Planck l'abbiamo risolto perché con l'assunzione di Lips-Cizianità riusciamo a provare unicità per l'Hemmin-Jacobi in realtà non ci serve unicità perché possiamo identificare una soluzione particolare che è proprio la funzione valore che abbiamo dimostrato essere soluzione delle equazioni di Hamilton-Jacobi Bellman ultimo punto continuità di questa mappa per dimostrare continuità di questa mappa di punto fisso abbiamo bisogno in genere si ha bisogno di stime uniformi del gradiente della funzione valore quindi della soluzione dell'equazione di Hamilton-Jacobi Bellman qui abbiamo un problema e abbiamo il problema di degeneratezza sul bordo in H uguale a 0 per equazioni degeneratezza sul bordo quindi equazioni non uniformemente paraboliche non sono disponibili le stime di cui abbiamo bisogno quindi cosa facciamo usiamo quest'altra proprietà di H che non è difficile dimostrare ma è cruciale per la risoluzione di questo problema che se partiamo da un dato iniziale maggiore di 0 allora il capitale umano rimane positivo quindi questa proprietà di positività del capitale umano che in qualche modo ci dice che il bordo c'è ma è un po' falso cioè non lo tocchiamo possiamo non toccarlo allora facciamo un cambio esponenziale definiamo la nuova variabile y uguale al logaritmo di H con questo cambio esponenziale il sistema minfil gain cambia come ho scritto qui ora non è più in 0T per S1 per R più ma H ora quindi la y nuova variabile sta in R in tutto lo spazio non ho scritto non vi ho scritto la formula esplicita per questa H tilde 1 che è la miltoniana dopo il cambio ma vi dico a voce che avrà coefficienti localmente Lipschitz che ci basta e in particolare come vedete questa equazione è uniformemente parabolica essendo uniformemente parabolica con coefficienti localmente Lipschitz possiamo usare le stime di regolarità del gradiente della soluzione dell'emito Yacobi e concludere la continuità e quindi concludere la dimostrazione di esistenza del punto fisso ulteriori generalizzazioni e estensioni abbiamo studiato anche il caso orizzonte infinito nel caso orizzonte infinito abbiamo dimostrato esistenza tramite convergenza del problema orizzonte finito già studiato al problema orizzonte infinito in questo caso però per avere la convergenza dobbiamo avere dei bound uniformi rispetto al tempo e per avere bound uniformi rispetto al tempo abbiamo dovuto modificare leggermente il termine di interazione in particolare come vedete qui non c'è più K ma abbiamo preso K fino a un certo valore e poi abbiamo tagliato questa assunzione quindi abbiamo preso il minimo tra K e una costante K questa assunzione diciamo a livello economico ci sembra avere senso perché non ci aspettiamo prendiamo valori del capitano umano in qualche modo limitati ci interessano questi valori qui perché non ci aspettiamo che il capitano umano sia effettivamente limitato in pratica e ora per concludere l'ultima parte di cui si è occupato Cristiano Ricci che è uno dei collaboratori con cui abbiamo abbiamo svolto questo lavoro che non li ho nominati scusate sono Cristiano Ricci dell'Università di Pisa e Giovanni Zanco dell'Università di Siena e allora abbiamo diciamo svolto l'analisi numerica del sistema stazionario quindi della soluzione stazionaria dell'equazione di Fokker-Planck quali sono i problemi nell'analisi numerica del sistema sono un po' i problemi che abbiamo visto nella teoria in particolare la scelta del dominio perché il capitano umano è a priori limitato cosa bisogna fare bisogna selezionare un threshold massimo quindi c'è il problema di come selezionare il threshold massimo e poi ovviamente c'è un sistema non lineare da risolvere che è influenzato dalla scelta della dell'approssimazione iniziale il metodo il metodo usato è differenze finite con un metodo di tipo Newton e un'approssimazione iniziale fatta doc per il modello studiato risultati allora vediamo qui in arancione la funzione di distribuzione e in blu la funzione di produzione quella che ho chiamato A che appare nel funzionale che gli agenti ottimizzano e in blu la distribuzione risultante come vediamo la distribuzione degli agenti somiglia nel comportamento alla funzione di distribuzione quindi questo è quello che ci si aspetta gli agenti si distribuiscono dove i servizi sono migliori infine ultima figura qui abbiamo la funzione valore in blu qui abbiamo la distribuzione in giallo e qui abbiamo il controllo ottimo S quello che ho chiamato S star cioè l'investimento ottimale queste figure sono prese abbiamo X questa è l'asse delle X della posizione e questa è l'asse del capitale umano queste figure sono state fatte con una funzione di distribuzione di questo tipo quindi sinusoidale cioè quella che abbiamo visto nella figura precedente con un picco nel mezzo come vediamo guardiamo la distribuzione qui si vede ancora meglio che la funzione di distribuzione è anch'essa un picco nel mezzo degli assi cioè dove la funzione di produzione ha un picco e cosa succede al controllo ottimo vediamo che il controllo ottimo ha questo comportamento in particolare a un certo punto può anche essere zero come ci spieghiamo questo comportamento del controllo ottimo vedete può essere zero quando il capitale umano è maggiore è al massimo quindi in particolare quando gli agenti sono soddisfatti del loro livello di capitale umano non investono più in nuova accumulazione del capitale umano cose da fare sono molte allora innanzitutto la risoluzione ovviamente del modello originario dove noi regolarizziamo la dinamica del capitale umano studiare il caso lambda cioè l'esponente che il coefficiente che mi determina il livello di aggregazione il caso lambda qui c'è uno sbaglio minore di uno scusatemi minore di uno quindi in cui non sappiamo ancora se esiste un limite o no del modello discreto abbiamo cominciato a studiare la master equation per il problema e abbiamo varie difficoltà soprattutto perché non abbiamo ancora unicità per cui è molto difficile anche solo definire cos'è la master equation se non abbiamo unicità per cui ci siamo spostati a studiare il problema modificare leggermente il problema e a studiare un problema di tipo min fill control proprio per questo modello economico poi c'è ovviamente la convergenza dello schema numerico che ancora non abbiamo rigorosamente provato e infine la convergenza del modello discreto al modello continuo min fill gain e concludo grazie Daria domande commenti io ne ho una sull'equazione di Fokker-Planck per fare punto fisso nei min fill games e nella dimostrazione della continuità si ha bisogno anche di un controllo sui momenti della soluzione riuscite allora la nostra diciamo noi partiamo dal punto fisso fatto in un insieme dove partiamo da distribuzioni che hanno un momento limitato e poi dobbiamo dimostrare che la soluzione effettivamente abbia un momento limitato e riusciamo ad avere il controllo del momento secondo se il momento del momento secondo rispetto alla distribuzione iniziale è limitato quindi basta quella assunzione è sufficiente quella condizione grazie altre domande commenti no ringraziamo ancora Daria grazie del talk e a proposito di interazioni ci muoviamo dai min fill games a struttura un po' diversa ci addentriamo nel campo sub-ellittico e sub-rimaniano con il prossimo speaker che è Giulio Tralli da Padova prego Giulio grazie 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 agli organizzatori per l'invito piacere essere qua a partecipare a questo workshop non vorrei il piso che io non so bene se sono io e allora vi parlerò di un problema di unicità in un setting geometrico nel setting del gruppo di Eisenberg vogliamo riconoscere certe palle palle della goge certe sfere sotto un'ipotesi di curvatura prescritta e quindi così si insomma l'indice del mio talk inizierò a definire il setting e poi parlerò dei risultati soprattutto della motivazione del lavoro e dei cercherò di fare dei confronti con con la letteratura qual è il il nostro qual è lo spirito della ricerca lo spirito della ricerca è cercare studiare risultati di simmetria in associati problemi di simmetria associati a operatori di tipo Hermander cosa sono questi operatori sono operatori tipicamente elittici degeneri dove l'eletticità è trasportata da certi campi vettoriali e il questi questi operatori hanno degli effetti regolarizzanti perché questi campi vettoriali sono non commutativi hanno questa proprietà che i loro commutatori devono generare le direzioni di non elitticità e questo si scontra un po' con problemi di simmetria detto un po' in maniera rosa nel senso che si comportano molto bene sotto il punto di vista di principi del massimo o problemi di regolarità ma problemi di simmetria del tipo provare a fare ribaltamenti o provare a fare simmetrizzazioni si scontra un po' con questa non commutatività dei campi e questo ci siamo occupati con con Vittorio Martino dell'Università di Bologna di questi aspetti soprattutto per in contesti geometrici del tipo di curvatura di levi prescritta per superfici reali in spazi complessi e in questo lavoro con Chiara Guidi e Vittorio Martino di Bologna trattiamo un problema nel gruppo di Heisenberg dove la letteratura è più ricca e proviamo a capire come la nostra analisi si parla insomma con la letteratura allora definisco il setting siamo in Rn 2n più 1 quindi uno spazio reale dimensioni dispari e R2n più 1 lo scriviamo R2n per R le variabili in R2n sono x e y non riesco più a spingere ok sono x e y e la variabile in R la variabile che chiamerò verticale la chiamo T e in questo in questo spazio dimensioni dispari c'è una struttura di gruppo non è Euclidea dove nella in questa variabile verticale si comporta in modo un po' strano con questo twist e ci sono un gruppo di lì omogeneo ci sono delle dilatazioni associate che rispettano questa struttura particolare nella variabile verticale e infatti sono delle dilatazioni anisotrope nel senso che si comportano normalmente sulle prime 2n componenti e con una potenza più alta rispetto alla componente verticale ok fatemi subito definire cosa intendo per Goge Goge è una norma in questo gruppo è una norma che rispetta la omogeneità nel senso che si comporta diverso sulle 2n variabili x e y rispetto a quella verticale quindi è omogenea di grado 1 rispetto a questa famiglia di dilatazioni e e poi se vogliamo renderla una distanza vera distanza con sostante 1 nella disuguaglianza triangolare la portiamo in giro con la struttura di gruppo quindi le palle della Goge saranno delle palle centrate in un punto che saranno all'insieme di livello di questa di questa funzione di questa funzione di questa norma omogenea queste sono delle palle metriche non l'unica scelta di palle metriche nella struttura del gruppo di Isenbren ma su questo torneremo dopo cosa abbiamo in questo gruppo abbiamo che appunto 2n campi vettoriali si comportano speciali rispetto allo spazio tangente a questo gruppo sono io nelle mie notazioni saranno si chiameranno xj yj e come sono costruiti nell'origine che è l'elemento neutro del gruppo sono la base jacobiana normale dei xj dei yj e poi vengono imposta l'invarianza a sinistra e da qui viene il twist come nella legge di gruppo e sono invarianti a sinistra appunto rispetto alla legge omogenee di grado 1 e fissiamo una struttura complessa nella distribuzione di dimensione 2n generata spannata da questi campi che porta xj in yj e yj in meno xj quindi in qualche senso sono parte reale parte immaginaria di una struttura olomorfa che sta nel background insomma del setting però di cui non vogliamo parlare prima in questo talk e fissiamo un altro campo vettoriale che completerà una base per la metrica lo chiamo t ed è semplicemente la varia verticale e di nuovo questo è invariante a sinistra ed è omogeneo di grado 2 ok quindi per me fisso una metrica che rende questa questa una base una base ortonormale ok cosa succede il commutatore dicevo prima è molto semplice controllare che il commutatore tra la parte reale e la parte immaginaria di questo campo olomorfo che sta nel suo strato è un multiplo del campo verticale e questo fatto rende la somma dei quadrati del campo un operatore non solo ellittico del genere a 2n direzione di eletticità in uno spazio di dimensione 2n più 1 ma in realtà un operatore ipoellittico grazie a un famoso risultato di Armander in realtà non ci serve il risultato di Armander per far vedere che questo è ipoellittico perché il nucleo fondamentale di questo operatore è esplicito ed è esattamente una potenza una potenza della Goge quindi questa funzione speciale Goge parla estremamente bene con l'operatore sublaplaciano su questo spazio tant'è che ha questa simmetria la simmetria della Goge è la simmetria della soluzione fondamentale ok la dimensione sembra strana perché ma non lo è perché la potenza la soluzione fondamentale della Goge deve avere potenza negativa n-2 e questa ha una potenza n-2 se al posto dell'n ci mettiamo la dimensione omogenea del gruppo ok quindi tutto bene abbiamo questa che è una soluzione esplicita globale nel gruppo quando iniziamo a mettere una superficie un'ipersuperficie quindi qualcosa di dimensione 2n in questo spazio 2n più 1 le cose iniziano a complicarsi perché perché abbiamo appunto una distribuzione orizzontale di dimensione 2n e questo si può parlare o non parlare con lo spazio tangente a questa iper superficie quindi prendiamo una superficie qui dentro la chiamo m sarà sempre connessa orientabile compatta senza bordo delle bellissime proprietà ok per me nu è la normale uscente pensiamo la compatta senza bordo c'è un insieme particolare che appunto dice come è messo lo spazio orizzontale cioè lo spazio generato dai campi xj yj rispetto alla normale quindi se lo spazio tangente è esattamente lo spazio orizzontale dico quel punto il punto in cui succede questa cosa è un punto caratteristico in letteratura ogni tanto viene chiamato singolare ogni tanto caratteristico io lo chiamerò caratteristico ma metterò la s di singolare per stare un po' in mezzo quindi questo può essere visto così quindi quando i punti in cui il tangente è esattamente la distribuzione orizzontale o analogamente i punti in cui la normale è tutta lungo il vettore t e per me nella mia notazione ph è la proiezione la proiezione sul spazio orizzontale quindi quando ph è 0 vuol dire che il mio vettore è tutto verticale ok quando non sono in questi punti è ben definita una normale orizzontale quella che si chiama normale orizzontale cioè quando ho una componente non nulla lungo la distribuzione orizzontale proietto lungo la direzione orizzontale e lo normalizzo di norma 1 chiamo nu h questa questa normale orizzontale ok quindi in questi punti in tutti i punti in cui questo è possibile cioè fuori da questo insieme singolare fuori da questo insieme caratteristico ho la normale si scriverà così semplicemente rispetto alla base e ho due campi tangenti speciali uno è questo che chiamerò tau che in questi punti è un vettore tangente perché è ortogonale alla normale ma ha componente verticale quindi è un vettore tangente ma non è orizzontale e un altro campo speciale lo chiamo eta ed è il j della normale quindi è ortogonale è tangente in questo senso perché j della normale orizzontale ok quindi questi da tenere a mente per questo talk è che questo spazio questo campo vettoriale che chiamo tau non è orizzontale mentre quello che chiamo eta sì è sia tangente che orizzontale ok quindi vogliamo parlare di curvatura sperscritta dobbiamo dire che cos'è la curvatura ora immagino ci si è scritto qui sotto quindi facciamo una differenza nel caso in cui siamo n uguale a 1 n uguale a 1 per me sono in r3 quindi sono in r3 ho una una iper superficie che vuol dire una superficie una cosa due dimensionale quindi ho questi due vettori tangenti speciali oh sto troppo indietro ho questi due vettori tangenti speciali si chiamano tau e eta e questo è tutto lo spazio tangente ok quindi in questa situazione l'unico campo tangente orizzontale è quello che sto chiamando eta e fare la curvatura vuol dire fare due derivate se volete rispetto a questo campo orizzontale tangente ok quindi fare la divergenza di questa normale orizzontale divergenza normale questo vuol dire fare curvatura media e qui in questo senso se volete seconda derivata rispetto a eta in senso geometrico ok questo nel caso di r3 e se inizio a alzare la dimensione adesso sono in r2 n più 1 n maggiore o uguale a 2 ho una iper superficie qualcosa di dimensione 2n e quindi quanti ne ho di campi vettoriali sia orizzontali che tangenti beh oltre a eta ne ho altri 2n-2 ok quindi completo la base in modo fatto normale fissando questo lo posso sempre fare che i 2n-2 campi vettoriali mancanti hanno questo è uno spazio chiuso rispetto a j quindi prendo sia le parti reali che le parti immaginali se volete quindi prendo sia i v che i w uno sono il j dell'altro ok quindi di nuovo fare la curvatura media qui la normalizzo devo fare la divergenza rispetto alla metrica di questa normale orizzontale cioè devo fare derivate rispetto a tutti questi campi vettoriali ora questa è una nozione ben conosciuta c'è una ricca letteratura questo questa curvatura media viene fuori facendo il variazione prima di quello che si chiama perimetro orizzontale in questo gruppo c'è una letteratura che studia c'è un problema molto studiato che è quello della disuguaglianza isoperimetrica in questo contesto e quindi sono state studiate non solo questa curvatura media ma anche le superfici a curvatura media costante in questo senso cioè sono i punti critici di questo funzionale perimetro a volume costante ok fatemi introdurre un'altra notazione voglio parlare di seconda forma fondamentale seconda forma fondamentale orizzontale questa è una definizione credo sia dovuta a Rito Re di operatore forma di shape operator cioè in qualche modo io voglio fare le derivate della normale lungo campi sia orizzontali che tangenti questo a priori perde di simmetria se lo voglio restringere lo spazio orizzontale tangente quindi c'è un termine aggiuntivo che lo rende un endomorfismo simmetrico su questo spazio orizzontale tangente e seguendo una coppia di lavori Chen Kyu Wang and Yang voglio parlare di superfici che sono umbilicali orizzontalmente ora qui faccio un attimo una pausa perché inizio a fare dei commenti in questo senso allora intanto se uno ha in mente cosa vuol dire umbilicalità nel senso classico vuol dire che io sto pensando a una seconda forma fondamentale che è un multiplo dell'identità io qua non sto parlando di tutta la seconda forma fondamentale perché sto parlando solo della parte e non sto guardando tutto lo spazio tangente solo la parte sia orizzontale che tangente quindi gli manca una dimensione qua gli manca il tau il vettore tau che non è orizzontale ma è tangente in più io sto dicendo che voglio chiamare o loro stanno dicendo che vogliamo chiamare una superficie orizzontalmente umbilicale qualcosa che è un multiplo di identità ma solo in questo sottominore di questi campi vettoriali v e w e si lasciano liberi la possibilità che lungo la direzione eta questo vettore speciale che è il j della normale abbia un comportamento diverso questa funzione qui si chiama l quindi qui fissando l'umbilicalità orizzontale si fissa un per la seconda forma fondamentale uno spezzamento ortogonale rispetto a questa base e un comportamento multiplo di identità su questo sottominore quindi in questo senso se uno vuole la curvatura media che è la traccia devo sommare questi contributi sia di l della funzione l che la funzione k ok cerchiamo di capisco questa è una terminologia un po' un po' pesante ma il su un esempio concreto voglio voglio far capire cosa cosa uno cosa stiamo facendo quindi fatemi fare un esempio dell'esempio che abbiamo in mente in questa analisi cioè pensare alle sfere della gauche ok quindi prendiamo n maggiore o uguale a 1 prendiamo un punto centrato su quest'asso verticale quindi è una sfera che è centrata le prime due n componenti sono 0 e la terza è questo numero t0 quindi questa è la funzione definente no? questo insieme e cosa succede? succede che gli unici punti caratteristici sono il polo nord e il polo sud di queste palle ok? sono palle semplicemente hanno una no? uno scaling diverso nelle prime due n variabili quindi i punti caratteristici sono il polo nord e il polo sud e uno conto diretto si può calcolare questa curvatura media questa curvatura media è un si comporta linearmente rispetto alla distanza dall'asse ok? quindi c'è questo termine radice di x quadro py quadro che dice quanto sono distante dall'asse su cui sono centrato e il è un multiplo di questo di questo fattore la curvatura media ok? e in più quando n è maggiore o uguale a 2 e posso controllare questa nozione di umbilicalità questi oggetti sono umbilicali e hanno la proprietà che entrambe l e k sono funzioni che vanno linearmente rispetto a questa distanza dall'asse verticale non sono uguali l e k ma differiscono una e tre volte l'altra ok? fatemi capire quante queste cose in questo esempio sono generiche tra virgolette e quanto no allora intanto questa è un'ipersuperficie che è simmetrica rispetto all'asse all'asse verticale ok? stiamo girando rispetto all'asse t e se prendete ipersuperfici quindi fatemi le chiamare cilindriche ok? che hanno questa simmetria assiale rispetto all'asse t se prendiamo queste superfici queste tutte queste superfici non solo la goge hanno questa proprietà di avere questi punti singolari punti caratteristici sull'asse di rotazione ok? quindi il fatto che qui tutti e soli i punti sono il polo nord e il polo sud è una cosa che è soddisfatta da tutte queste superfici con questa simmetria cilindrica e un'altra cosa che è soddisfatta da tutte le superfici con questa simmetria cilindrica è l'orizzontale umbilicalità ok? quindi al di là della definizione uno potrebbe pensare questa orizzontale umbilicalità nasconde una simmetria rispetto a un asse di rotazione ok? la cosa che non succede è che questa ipotesi di orizzontale umbilicalità implica il rapporto tra queste due funzioni L e K quindi fatemi fare un altro esempio che vi dicevo è molto studiato in letteratura che non è queste palle infatti queste come vedete queste palle hanno una queste sfere hanno una curvatura media non costante quali sono le sfere con curvatura media costante? queste sono chiamate sfere di pansù in letteratura hanno un e sono gli oggetti che sono quelli che i candidati a essere gli unici minimi della disuguaglianza superimetrica minimi del perimetro a volume costante questi sono quelli con curvatura media costante sono superfici con una simmetria cilindrica rispetto all'asse se fissiamo il centro quindi sono una superficie a simmetria cilindrica e hanno una hanno un rapporto tra L e K quindi sono umbilicali perché sono a simmetria cilindrica hanno un rapporto tra L e K per cui L è due volte K quindi c'è questo sfasamento tra i due autovalori L e K di questa seconda forma fondamentale e si parla con il tipo di curvatura che stiamo prescrivendo ok quindi cosa vogliamo fare allora prima presenti i risultati e poi come dicevo proverò a commentare rispetto alla letteratura esistente quindi il primo risultato dividiamo cosa succede in n uguale a 1 e in n maggiore uguale a 2 allora in n uguale a 1 tutte le ipotesi geometriche su m che ho fissato prima assumiamo di sapere dove è l'insieme singolare assumiamo di sapere già che l'insieme singolare è sull'asse ok e vogliamo sotto l'ipotesi che la curatura media è esattamente quella delle goge vogliamo andare a inferire che la superficie è esattamente una palla della goge e questo è quello che succede cioè questa ipotesi di insieme singolare sugli assi è quella che ci permette di inferire questa simmetria sull'insieme e andare a dimostrare che m è una palla della goge cosa succede invece cosa abbiamo dimostrato invece per n maggiore uguale a 2 bene qui siamo nel contesto che la nostra ipotesi a differenza di questa andiamo a supporre che m abbia questa simmetria a priori questa orizzontale umbilicalità e di nuovo sotto l'ipotesi di curatura prescritta che è come quella della goge cioè che la curatura media sia linearmente direttamente proporzionale meno di questa costante questo fattore moltiplicativo della distanza dall'asse andiamo a inferire che m è esattamente una goge a quel punto fissata la c sappiamo raggio e il centro sarà sull'asse di simmetria ok quindi vorrei fare due tipi di commenti uno provare a unificare questi due teoremi e uno provare a dirvi del perché sono due teoremi distinti e cosa succede nelle varie ipotesi ok allora il caso delle superfici a simmetria cilindrica è particolarmente significativo e fatemi dire che se l'assumiamo come ipotesi per ogni n n maggiore o uguale a 1 il fatto di avere simmetria cilindrica ci fa concludere il risultato nel caso n uguale a 1 usando il primo risultato nel caso n maggiore o uguale a 2 usando il secondo risultato fatemi ridire perché anche se l'ho già detto nel caso n uguale a 1 la simmetria cilindrica ci dice dove sono i punti caratteristici ogni superficie a simmetria cilindrica ha questa ipotesi soddisfatta e nel caso n maggiore o uguale a 2 come vi dicevo prima anche qui è facile un conto diretto andare a vedere che le superfici con simmetria cilindrica hanno questa struttura particolare per la seconda forma fondamentale ok quindi se uno vuole unificare i due risultati nelle varie dimensioni fatemi dire che uno può vederlo così quindi sotto un'ipotesi di simmetria a priori questa ipotesi di curvatura prescritta permette di riconoscere che la superficie è una palla della goge ok quello però che mi permette di dire è invece le differenze tra i due risultati e cosa c'entrano con le cose che si sanno con letteratura allora la motivazione principale appunto di studiare questo tipo di problemi per curvatura prescritta nel gruppo di Heisenberg è il fatto che c'è una stata una forte attenzione in letteratura alla soluzione di questo problema isoperimetrico e questa viene chiamata solitamente congettura di Pansu congettura fatta negli anni 80 e il e come vi dicevo queste sfere di Pansu sono quelli che si aspetta essere gli unici minimi di questo di questo problema isoperimetrico ora il cosa hanno di buono cosa hanno di cattivo questi 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 queste sfere di Pansu rispetto al nostro caso beh intanto il il caso che stiamo trattando noi che ha curvatura non costante a differenza di queste che ha curvatura costante hanno una 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 funzione definente più complicata se uno scrive la funzione definente questa dipende da funzioni trigonometriche inverse dall'altra parte hanno si comportano meglio rispetto a la geometria è più la geometria delle curve integrali di questo campo speciale tangente eta è più è più è più definita nel senso che queste le curve integrali di eta sono esattamente le geodetiche sul gruppo quindi in questo in la superficie nel caso n uguale a 1 è foliata da queste curve integrali di eta ok cosa si sa per questo problema beh nel caso n uguale a 1 si sa molto si sa praticamente tutto nel senso che il è un risultato di ritoriale rosales del 2008 che questi sono gli unici punti critici se si assume regolarità quindi se uno non si preoccupa di problemi di regolarità gli unici punti critici del promesso perimetrico sono le le sfere di pansù questo risultato che usa un teorema di struttura per l'insieme singolare dovuto a Chen Guang del 2005 sfrutta anche il fatto che i punti critici del perimetro a volume costante danno una condizione all'insieme caratteristico cioè non si sa solo che hanno curvatura costante in tutta la superficie M meno l'insieme caratteristico perché lì è definita la curvatura ma sa anche che le curve integrali di eta si comportano in un certo modo all'insieme singolare e fatemi parlare di una condizione di Oumann omogenea in qualche senso all'insieme singolare quindi questo è quello che si sa in dimensione n uguale a 1 e in dimensione n maggiore uguale a 2 ci sono molti risultati parziali in particolare sotto i posti di simmetria priori simmetria cilindrica Cheng, Q, Wang e Yang hanno considerato appunto il caso orizzontalmente umbilicale anche per curvature di ordine superiore sotto ipotesi di convessità ci sono molti risultati in questa direzione ok quindi fatemi fare una cosa che non dovrei fare cioè dirvi che il nostro risultato è il primo ha meno senso del secondo nel senso che la nostra condizione non è variazionale per niente ok non parliamo di una condizione di Neumann omogenea in qualche senso è una condizione di Riclet che stiamo mettendo stiamo dicendo dov'è questo insieme questo insieme in qualche modo è un bordo che è uno dei problemi è libero e deve essere determinato nel problema e noi stiamo dicendo dov'è in qualche senso è una condizione di Riclet al posto di una condizione di Neumann e il motivo per cui è utile e anche molto forte come condizione lo voglio far capire in questa slide cioè c'è una quantità che viene conservata lungo le curve integrali di questo campo speciale eta che è l'unico campo tangente orizzontale in questo caso di H1 la quantità nel nostro caso è questa che viene conservata lungo questa funzione a derivata lungo eta zero quindi è costante lungo le curve integrali di eta e quello che vogliamo fare per riuscire a ricostruire tutta la simmetria è capire non solo che è costante lungo ogni curve integrali di eta ma che è proprio zero ok che assume sempre la stessa costante lungo tutte le curve integrali e quella costante è zero e perché lo vogliamo fare perché una volta che questo succede che sappiamo che questa quantità che è costante lungo queste curve integrali è identicamente nulla riusciamo a implicare la costanza il fatto che è costante un'altra funzione e queste due informazioni legate ci danno la simmetria della Goj ora il fatemi dire allora che senso ha mettere una condizione di stessa è come per dire in questo contesto io non ho realmente una struttura di Armander sullo spazio tangente perché? perché ho un solo campo vettoriale orizzontale questo campo vettoriale non avrà mai una condizione di Armander perché mi serve fare i commutatori e con chi lo faccio il commutatore se ho un campo vettoriale solo quindi in qualche senso è una fare due derivate lungo eta è un operatore elitico del genere propriamente detto è un laplaciano troncato diremmo su questo spazio tangente e quindi se io volessi fare unicità beh se impongo la condizione di Riclee al bordo dal condizione al bordo riesco a andare a prendere l'unicità quindi se volete stiamo barando con questa condizione è un il motivo per cui abbiamo fatto in età questa analisi è nel caso n maggiore uguale di 2 ed è legato a cose che stavamo studiando in un altro contesto perché? perché nel caso n maggiore uguale di 2 c'è davvero una struttura di Armander che è ereditata dallo spazio tangente cioè questi campi vettoriali che nelle mie notazioni sono eta v1 w1 e tutti i v e w davvero la loro algebra ricostruisce tutto lo spazio tangente quindi la struttura di Armander è ereditata dal bordo e avevamo studiato un problema simile per un problema tipo Aleksandrov con curatura di Levi prescritta ora non voglio entrare nelle definizioni di questo giusto per dirvi che è un problema analogo con in cui la curvatura ha proprietà di tipo Armander ma invece di essere in uno spazio spazio dispari il cui quindi prendo un'ipersuperficie che è qualcosa di pari io sono in uno spazio pari un cn un r2n n maggiore uguale di 2 stesso 2 e vado a prendere delle ipersuperfici reali di dentro che quelle sono dispari ok quindi se volete è il gruppo di Heisenberg che è un'ipersuperficie reale dentro un cn quindi nel caso del lavoro che sto presentando oggi starei prendendo qualcosa di codimensione 2 in questi in questi spazi complessi ok il 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 teorema che andavamo cercando per cui abbiamo dei risultati parziali in questo contesto è un problema di una certa curvatura costante e gli gli insiemi che vogliamo che vorremmo caratterizzare sono vere palle palle vere in r2m e questo problema ha molti similarità col problema di questa curvatura prescritta con questo fattore di distanza dall'asse nello spazio di Heisenberg soprattutto se iniziamo a assumere simmetrie assiali a priori quindi cosa sto dicendo sto dicendo che sono stati studiati dei problemi con in questo contesto per esempio in c2 con simmetrie di tipo Reinhardt che dice quindi che io ho un'iper superficie dimensione 3 che posso descriverla con un parametro ci sono due simmetrie e c'è un risultato di O'Neill-Anconelli che tramite i metodi di ODI riescono a caratterizzare le sfere tra queste classi domini e con Vittorio e Martino ci siamo occupati di domini circolari che sono descritti da due parametri con metodi di PDI invece di ODI ultima slide arrivo subito quindi cosa facciamo in questo caso di HNN maggiore o uguale a 2 consideriamo una funzione analoga a quella che vi dicevo prima questa non è costante lungo le curve integraie di eta ma la sua derivata lungo eta vede la differenza tra questi due fattori L e K quindi l che deve essere un 3K per la Goj lo vediamo nelle derivate rispetto a eta di questa funzione ora il fatto è dimostrare che L è identicamente 3K e come lo facciamo lo facciamo andare a studiare a sfruttare la struttura di Armander cioè prendiamo una versione pesata di questa funzione e andiamo tramite derivate prime quindi una condizione del primordine andiamo a far vedere che tutte le derivate quindi la cosa furba tra virgolette è la scelta di questa funzione e tramite le equazioni di codatti andiamo a vedere che tutte le derivate orizzontali e tangenti sono 0 ok ma adesso non si parla più che sono costante lungo le curve integrali perché la condizione di Armander mi dice che in realtà lungo tutte le curve tangenti io sono costante e quindi proprio tutta la funzione è costante e questo insomma questa proprietà di Armander ereditata dal bordo è la chiave in questo caso di dimensione più alta per concludere la simmetria sferica e scusami vi ringrazio per l'attenzione grazie Giulio domande? prego volevo chiedere se ci sono anche superfici tipo dell'unè a curvatura media costante cioè che con topologia cilindrica di quale curvatura adesso stiamo parlando sempre ad esempio nel caso 1 o anche negli altri nel caso 1 n uguale a 1 per esempio di superfici sì ah no questo non lo so questo non so io ho visto no aspetta un secondo però la cosa che ci fa più vicina però dovresti saperlo meglio tocca a me c'erano dei risultati a feltra che studiava delle cose con periodicità sì quello era per un'equazione sì tipo Yamabe ah ok ok però non i per superfici non ti saprei proprio rispondere non lo so non lo so ok altre domande? ringraziamo ancora Giulio allora cominciamo con questa seconda sessione del pomeriggio e parla Chiara Bernardini di Padova ergodic minfield games with type aggregation mass concentration and potential free case parla in inglese dice che preferisce bene ho preparato il discorso in inglese quindi siccome sono anche un po' agitata parla in inglese ok so thank you for the presentation and thank you also the organizers Alessandro Cristian and Paola for the invitation today I will present some recent results concerning ergodic minfield game system with aggregation of circular type and in particular studying the asymptotic behavior of for scale solutions in the vanishing viscosity limit we are able to prove extents of classical solution to the potential free minfield game system and also since as epsilon goes to zero the dissipation effect due to the Brownian motion becomes negligible we are able to prove concentration of mass around minima of the potential but let me first describe the setting of our problem so we study second order ergodic minfield game system defined in the whole Euclidean space Rn and where the coupling is described in terms of Ritz interaction kernel which therefore is aggregative and non-local and we assume that the Miltonian has this particular form one over gamma the norm of the gradient of u to the power gamma but this is only for sake of simplicity indeed more general assumptions on the Newtonian are possible and we obtain the same result okay our aim is to study extents of classical solution to this potential free minfield system and by classical solution we mean a triple u m and lambda where u belongs to c 2 the function m belongs to the super space w 1 p for every p greater than 1 and less than plus infinity and lambda is a real value okay yeah the unknowns as I said in this system are the function u and m and the constant lambda which can be interpreted as a grange multiplier related to the mass constraint or as the value for the game okay as as you know the theory of minfield games models the behavior of a very large number of identical rational players aiming at minimizing a certain common cost by anticipating the distribution of the overall population and in particular in our setting the dynamic of each player is described by the following controller stochastic differential equation where VdT is the controller velocity and VdT is the n-dimensional motion and the cost which each agent want to minimize is the following one where mdt is the density of population and from a pd viewpoint Nash equilibria of the differential game solves the previous system of pd where we have an Hamilton Jacobi Bellman equation and the Kolmogorov equation and in particular the Hamilton Jacobi provides the optimal speed of the optimal control of a typical player while the Kolmogoro provides the distribution m of the population when moving with the optimal speed of okay 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 the main features of our model first of all the state space is the wall space rn while usually mean free games are defined on bounded domains with Neumann or periodic boundary conditions in order to avoid noncompactness issues I recall some works in noncompact settings for example a work of where they started in a quadratic case work of where he studied a problem in the time independent case in the wall space rn where they studied local regularity of solution in the wall space and also work of where they have a power type coupling in the wall space okay then we have as I said a rich type interaction kernel and decoupling is defined in the following way so we have a focus in game system most of the game literature is about the focus in game system namely when decoupling discourage aggregation here decoupling encourage aggregation of players okay if gamma is equal to gamma prime equal to 2 we can use the so-called of call transformation so setting also m equal to square we obtained that our game system is equivalent to the following system the first one is the equation and the second one is a condition on the L2 norm of the function b but since our model is strictly related to the equation let me briefly introduce this semilinear elictive PD the Schokard equation has been intensively studied during the last decade indeed it can be used to model various mean field physical phenomena and in particular it was first introduced by Picard in 1954 in order to model the quantum mechanics of Apollo and the equation as this form in R3 it was then used by Schokard to model an electron trapped in its own hole more recently researchers focused their attention on the Schokard equation with a more general non-local non-linearity depending on a parameter p greater than 1 this one in Rn and notice that in the Schokard equation where the interaction attracting the interaction potential is defined in terms of Ritz interaction kernel and therefore it is weaker and with longer range than the usual power type non-linearity of the classical non-linear Schrodinger equation okay existence of classical solution has been first studied using variational arguments by Lieb and then by Leon in the normalized framework indeed they impose a condition on the L2 norm of the function u and indeed weak solution to the Schokard equation are related to critical points of this energy functional and we can observe that this action function using subalive embedding and the little subalive inequality is well defined when p is greater or equal than n plus alpha over n and less or equal than n plus alpha over n minus two and so using variational arguments to prove existence and a positive type identity in order to prove non-existence of solution one can prove that the Schokard equation admits an solution if and only if p is between these two values and we can refer for example to some works of Morotz and Van Schafften notice that a similar range of values also appears in our model and if p is equal to two and gamma is equal to gamma prime they coincide coincide okay so depending on the interplay between aggregation and dissipation we obtain different regimes and in particular if we have a kinetic term which penalizes the speed then the coupling between the individual and the overall population as I said is described in terms of its interaction potential so each agent is attracted toward the regions where the population is distributed and finally we have a motion which induces dissipation effort so existence and non-existence will depend on the interplay between these two forces aggregating forces and dissipating forces and in particular if the aggregation is too strong the mass m tends to concentrate and tends to develop singularities so we spec non-existence of classical solutions on the other hand if the dissipation is too strong we could have loss of mass and infinity and so also in this case we spec non-existence of classical solution so depending on the balancing between aggregating and dissipating forces we have three different regimes for existence and non-existence of classical solutions and in particular if alpha is greater than zero and less than n minus to gamma prime we are able to prove non-existence of regular solutions by regular solution we mean they have to satisfy some integrability and mandatory conditions infinity and in order to prove that we use a positive identity but this is another story and Annalisa will tell you more about this and okay in the second regime namely when alpha is greater or equal to n minus two gamma prime and less or equal to n minus gamma prime the problem is still open we are not able to prove excellence of solutions because we are not able to use the same technique we use in the third regime meaning when alpha is greater than n minus gamma prime and less than n in this regime we are able to prove excellence of classical solution for every capital m greater than zero to our potential free min system and this is the case we are going to investigate now and in analogy with the regimes appearing in the Schokard equation we will call alpha equal to n minus to gamma prime the r deletable sobole exponent similar exponent also appear in the Schokard equation and restriction on the exponent in the nonlinearities are a very common features of seminal ellitic problems and due to sublim embedding and the when alpha is equal to n minus gamma prime we will call this alpha mass critical or L2 critical exponent and this is the critical exponent related to boundedness of the energy associated to our min film system okay yeah I want to recall also that if we have a potential V in our min field system indeed we are able to prove extents of classical solution and wide range of values also in this regime at least for masses smaller than a threshold value so before before describing more in detail our my result I would like to tell you more about the tools we use when dealing with the risk potential and in particular the first one is the sub aluminum equality and so assume to have two real values p and r greater than one such that they satisfy this condition a function f in r p and the function g in r then we were able to estimate the ritz term with a constant norm of f in lp and the norm of g in r and if f is equal to g and p is equal to r we obtain this estimate which is the estimate we use always in our work and the sub aluminum equality is useful to obtain integrability results and compactness for the its term under suitable as functions okay concerning order regularity we're able to prove that the its term is order continuous when the function f is sufficiently integrable namely when f belongs to l1 and r and r has to try this this new quality okay then we are able also to estimate the l infinity norm of the term by a constant norm of f nl r plus a constant norm of s when r and s are in some suitable integral intervals okay and this last result is important because when we want to pass to the vanishing viscosity limit we need the uniform l infinity estimates on the function m so if we have a sequence of classical solution to this min free game system assume that every function uk is bounded from below uk goes to plus infinity as norm of x goes to plus infinity every function mk is in l1 and in l infinity and also that the lq norm of mk is uniformly bounded for some q greater than n over alpha plus gamma prime if these conditions are satisfied we're able to say that l infinity norm of the function mk is uniformly bounded in k and actually this assumption can be relaxed in our regime namely when alpha is greater than n minus comma prime and less than n so focusing on the mass subcritical regime namely when alpha is greater than n minus comma prime and less than n we're able to prove extents of classical solution to the potential free mean free game system and in particular the result we obtain is as follows we prove extents of classical solution for every capital m greater than zero and this estimate is bold in particular the function u is bounded from below in this way the norm of the gradient of u is bounded and the function m is positive and bounded from above okay in order to study our mythic game system we have to consider another mythic game system this one we put a small parameter epsilon in front of the replacian and a potential v which is is locally order continuous and satisfies this condition where b and c v are two positive constants so in this way we have a mythic game system where the brain motion depends on epsilon and the coercive potential which represents partial preference of agents this creates them to be far away from the origin now we study this system okay using a variational argument we are able to prove extents of classical solution to this mean fig game system and then we study the behavior of rescale solution in the vanishing viscosity limit so we obtain that there exists for every epsilon greater than zero and capital m greater than zero there exists a triple epsilon m epsilon lambda epsilon which is a classical solution to our mean fig game system and it is related to a minimum of the energy we obtain also these estimate for the Lagrange multiplier lambda epsilon where the constant c1 c2 and k do not depend on epsilon and the concentration result we obtain is the following there is a sequence of values lambda epsilon going to zero and a sequence of point x epsilon around which there is concentration of mass and the sequence of epsilon goes to x bar when epsilon goes to zero and x bar is a minimum point of the potential when by concentration of mass I mean this fact so okay as I said in order to prove excellence of classical solution I use a variational argument minimization procedure so classical solution to our mean field game system are related to critical points of the following energy functional over this constraint set so we are able to we are in the in the mass critical case alpha is greater than n minus gamma prime and less than n in this range of alpha the energy is bounded from below in order to prove that the energy is bounded from below we use some regularity results for the equation the fact that the potential v is greater than zero and they are the quality and we're also able to estimate the infimum of the energy over the previous constraint set and we have this estimate so the class the minimization problem is well defined and so by classical direct methods we prove x of a minimizer and also these two estimates and as said the constant c1 c2 c and k do not depend on epsilon this factor will be useful in the following when dealing with the vanishing viscosity limit so once we have minimizer a couple m epsilon w epsilon we have to come back and obtain a classical solution to our minfig game system so we observe that m epsilon w epsilon is also minimizer of these linearized functional so using convexity of this energy where notice that in the term we have m epsilon using convexity and so the min-max theorem and so on we are able to conclude because we are able to say that the term is sufficiently regular and so defining lambda epsilon as the supremum among all values between the values such that temmel-toyakobi has a c2 solution we are able to prove that there exists a function u epsilon with this value lambda epsilon so we can conclude and obtain a classical solution to our min-fee game system okay now we want to study the asymptotic behavior when epsilon goes to 0 we have to define a scaling of the tripod and also translate the reference system by a point y epsilon where y epsilon is the minimum point for the function u epsilon being u epsilon the value function this is a point around which most of the players should be located so around y epsilon the mass remains positive and so we can rule out the fact that in the limit the integral of this limit is equal to 0 so okay we scale the solution and we obtain that the scale solution solves this mean free game system notice that now the coefficient in front of the laplacian is equal to 1 the nonlinealities preserve the behavior and preserve the mass it preserve the mass and notice also that the scale potential the epsilon vanishes locally when epsilon we cannot take advantage of the coercivity of v in order to prove the l1 convergence of of the mass m epsilon and bar epsilon so okay taking advantage of the estimate obtained in the variational framework we are able to obtain the following estimates which which do not depend on epsilon and so we can pass to the limit and obtain that up to a subsequence a classical solution to the escape min-free game system converges to a triple u-bar and bar lambda bar which solves this min-free game system now in order to conclude we have to prove that the function g is identically zero and also that there is no loss of mass because now we only know that this integral is equal to a greater than zero and less or equal to capital M okay so first of all in order to prove that there is no loss of mass we prove that the scaled energy holds a sort of subadditive property and in particular the infimum of the scaled energy when the total mass is equal to capital M is less than the infimum of the scaled energy when the total mass is equal to a plus the infimum of the scaled energy when the total mass is capital M minus a minus a constant then arguing by contradiction namely assuming that the integral of m bar is equal to a greater than zero and less argument we are able to prove the inverse inequality this is an absurd and so the integral of m bar is equal to capital M and so we have also L1 convergence okay we are now in the position to prove that the the triper u bar and bar and lambda bar is a solution to the potential free min free game system because the rescaled potential V epsilon is can be estimated in this way so the epsilon converges locally uniformly when epsilon goes to zero and so the function g is identically zero okay we also we are also able to localize the points around which there is a concentration of mass okay some final remarks when alpha is equal to n minus gamma prime the energy is not bounded from below actually is bounded from below only when the mass m is sufficient is more in the other region when alpha is greater than n minus gamma prime and less than n minus gamma prime the energy is not bounded from below but we are able to prove existence of local minima in in other in we are able to prove a concentration result similar to the previous or that solutions do exist this is due to the fact that in this case we are not able to obtain the same uniform estimate on the Lagrange multiplier lambda epsilon so we are not able to conclude because we cannot rule out loss of mass and finally we are able also to prove existence of classical solutions using a fixed point argument indeed of the variational argument but we are not able to conclude because we are not able to obtain the same uniform estimate we obtain in this case thank you thank you there are some questions comments dal punto di modellissimo che cosa vuol dire che uno perde massa cioè gli agenti che fine fanno in questi modelli in cui si ha perdita di potrebbero andare a finire all'infinito e disperdersi all'infinito ad esempio cioè potrebbero andare infinitamente lontano l'una dall'altro e quindi secondo me è quello c'è più interazione c'è troppa dissipazione ok continuiamo con il prossimo con il prossimo speaker di oggi che è fabio camilli della sapienza e parlerà di a continuous dependence estimate for viscous Hamilton Jacobi equation on networks with application grazie Anna Lisa e grazie anche agli organizzatori per aver organizzato questa conferenza molto interessante quindi questo lavoro in collaborazione con Claudio Marchi dell'Università di Padova e in particolare appunto studierò equazioni di Hamilton Jacobi su queste strutture geometriche non in un ambiente classico ma sui networks nei networks appunto come vedremo in seguito abbiamo dei vertici che sono connessi da archi a differenza dei grafi mentre nei grafi tipicamente problemi sui grafi abbiamo dei problemi posti solo nei vertici e i collegamenti fra vertici non sono importanti se ha solo un peso che per il passaggio da un vertice un altro in questo caso invece è importante anche il collegamento fra i vertici infatti le equazioni saranno poste anche sugli archi quindi avremo delle equazioni poste sugli archi equazioni differenziali con delle condizioni ai vertici che spiegano come i diversi problemi posti sugli archi poi interagiscono nei vertici il prototipo classico di problemi sui network sono i modelli di traffico in cui appunto gli archi che rappresentano le strade e i vertici rappresentano gli incroci allora in particolare appunto io studierò equazioni di Hamilton Jacobi poste sul network in particolare diciamo questo la teoria delle equazioni in particolare problemi al secondo ordine comunque in generale equazioni di Hamilton Jacobi sul network hanno avuto un buon sono state abbastanza studiate negli ultimi anni sono state proposte anche delle nozioni soluzioni viscosità insomma abbastanza sviluppato negli ultimi anni io mi occupo però di stime di dipendenza continua dove per una stima di dipendenza continua intendo tipicamente abbiamo delle equazioni con una struttura simile ma magari con dei coefficienti che possono essere diversi come in questo caso il termine a destra f con i allora l'obiettivo quindi avendo soluzioni di problemi simili ma con coefficienti diversi vorrei stimare la distanza tra le soluzioni dei problemi in qualche norma all'infinito c2 in termini della distanza dei coefficienti stime di questo tipo ovviamente sono classiche nei problemi lineari sono quasi immediate nei problemi liari però hanno delle applicazioni importanti tipicamente appunto per esempio per provare dei retto tassi di convergenza per problemi come schemi di approssimazioni vanishing viscosity o anche in omogenizzazione e anche dei risultati di regolarità tipicamente come si può vedere diciamo prendendo per esempio la soluzione calcolata in due punti diversi nell'ambito appunto in un ambito classico lineare o anche diciamo semilineare sono risultati molto classici nell'ambito della teoria delle soluzioni viscosità per problemi secondo ordine anche dei generi penso forse uno dei primi lavori è questo lavoro di Alvarez e Bardi poi c'è tutta una diversi di questi risultati sono stati sviluppati da Jakobsen Carlsen diciamo in particolare Jakobsen diversi lavori di stima di dipendenza continua anche per equazioni con termini integro differenziali diciamo con termini integrali quindi problemi integro differenziali varie condizioni al bordo quindi ho riportato un paglio per quanto riguarda i risultati che presenterò in particolare farò riferimento diciamo le tecniche utilizzate saranno abbastanza vicine a queste in questo lavoro di Claudio in cui appunto lui prova delle stime di dipendenza continua nel caso Clideo anzi nel caso periodico più propriamente e applica queste stime di dipendenza continua a dimostrare un tasse un tasso di omogeneizzazione ok quindi ok come detto studia studierò un'equazione di Hamilton Jacobi appunto proverò delle stime di dipendenza continua per equazioni del secondo ordine definire su un network e in particolare diciamo queste sono erano state proprio pensate per in vista di due applicazioni la prima applicazione è un minfield game questo tipo di sistemi minfield games che si chiamano quasi stazionari la struttura di questi sistemi è un pochino diversa rispetto a quella classica nel senso che invece come abbiamo visto di avere o due equazioni stazionari o due equazioni evolutive in questo caso abbiamo un'equazione stazionare per l'equazione di Hamilton Jacobi e un'equazione evolutiva per l'equazione di Fock Planck questi problemi sono stati studiati in RN non sui network quindi nei network ci saranno queste condizioni di transizione ai vertici che specificherò in seguito quindi questo è sostanzialmente il problema come potrebbe essere in un caso periodico e la seconda applicazione invece è provare un tasso di convergenza in particolare dando anche un tasso di convergenza quando abbiamo dei problemi dell'equazione di Hamilton Jacobi Bellman definite su una struttura tipo lattice di grandezza Epsilon mandiamo Epsilon a zero questo network questo lattice invade tutto lo spazio e quindi la soluzione di questi problemi definiti su questa struttura tende a un problema definito su tutto l'ambiente euclideo e vogliamo provare convergenza e dare anche una stima del tasso di convergenza network come vi ho detto in particolare considero dei network limitati i network limitati sono delle strutture sono dati da una collezione finita di vertici che sono connessi da degli archi per semplicità assumerò che questi archi sono fatti da segmenti ma in generale non è restrittivo perché attraverso riparametrizzazioni si possono sempre insomma invece di studiare si studia il parametro e quindi ci si riconsidera un caso diciamo lineare non è restrittivo quindi questi sono i vertici gli archi anche alfa alfa sono gli indici degli archi quindi alfa rappresenta l'indice degli archi anche importante nel seguito per le condizioni ai vertici questo è questo AI che rappresenta gli indici degli archi incidenti a un dato vertice a un vertice V funzioni funzioni definite a un network in realtà sono date da una collezione di funzioni definite sugli archi che indicherò con V alfa le derivate all'interno dell'arco sono derivate unidimensionali quindi sono derivate intese in un senso ordinario mentre ai vertici si considerano diciamo si possono in generale o auscenti o entranti diciamo non cambia molto cambia un po' le diseguaglianze in particolare io considero derivate entranti ai vertici a entrambi i vertici quindi dipende dai due vertici dell'arco spazi funzionali che tipicamente si definiscono allora gli spazi LP sono gli spazi delle funzioni che sono LP su ogni singolo arco gli spazi di Sobolef sono spazi di funzioni che sono nella corrispondenza spazio di Sobolef nel singolo arco cioè quindi rispetto al parametro ma che sono ai continui vertici è naturale assumere sostanzialmente per un problema di comprare una proprietà di immersione anche la continuità ai vertici le funzioni regolari sono funzioni smooth regolari dentro agli archi ma continuo ai vertici notate che non si assume la continuità delle derivate ai vertici quindi ai vertici si prendono continue su tutto il network e regolari all'interno le derivate potrebbero essere diverse ai vertici quindi non c'è continuità delle derivate ai vertici e in seguito mi servirà anche questo spazio delle funzioni piecewise continue se sono funzioni continue negli archi ma non ai vertici questi sono i principali spazi funzionali che utilizzerò queste equazioni come nella teoria classica delle equazioni di Hamilton Jacobi-Bellman sono associate a dei processi di controllo ottimo di processo di diffusione anche in questo caso le equazioni di Hamilton Jacobi-Bellman definite sul network sono associati a processi stocastici allora questo è un modo un po' veloce di definirli consideriamo un operatore lineare L definito sul network tale che la sua restrizione su ogni singolo edge è dato da questo operatore del secondo ordine quindi sono derivate seconde derivate prime e come dominio di questo operatore prendiamo le funzioni che sono c2 su tutto il network quindi continue con derivate due derivate all'interno degli archi e in più che soddisfano questa condizione ai vertici questa è chiamata la condizione di Kirchhoff e dice sostanzialmente che la combinazione delle derivate lungo gli archi calcolate in un vertice moltiplicate per un opportuno peso pi alfa i poesi pi alfa sono tra 0 e 1 strettamente diversi da 0 e la loro somma uguale a 1 allora quindi il dominio di questo operatore sono le funzioni che soddisfano appunto questa condizione di Kirchhoff ai vertici allora questo operatore può essere visto come il generatore infinitesimale di un processo di Markov che è dato da una coppia x grande alfa t con la proprietà che per ogni t o almeno per quasi ogni t x t appartiene all'arco gamma alfa t quindi in qualche modo alfa t è una variabile aleatoria che mi dà l'indice a cui appartiene la variabile di stato x t inoltre se prendiamo la proiezione in termini della coordinata diciamo del del processo lo proiettiamo sull'arco questo x piccolo di t così definito soddisfa un'equazione differenziale stocastica in cui c'è una parte di diffusione la prima parte e poi ci sono altri due due processi ldt e hdt l'indice I è relativo al vertice e questi v doppio grande è un processo di Wiener questi altri due processi sono dei processi che si attivano soltanto quando x t raggiunge uno dei due estremi all'arco e possono essere interpretati in qualche modo come il tempo che il processo spende in uno dei due vertici quindi l per esempio cresce soltanto quando x t raggiunge il vertice e il vertice è parametrizzato da zero ma normalmente nel caso in particolare in cui che io considero in cui mu è diverso da zero in realtà questi processi sono quasi comunque zero nel tempo l'interpretazione invece dei coefficienti p alfa che appagliono nella condizione di Kirchhoff è la probabilità che il processo avendo raggiunto il vertice al tempo t entra in uno degli archi adiacenti quindi rappresentano esattamente la probabilità di entrare in uno degli archi adiacenti il vertice dato sì 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 si sono dati del problema sì sì si sono dati del problema e qui ha citato due lavori classici sui processi di fusione su grafi proprio diciamo con la in cui viene sviluppata questa teoria ma ci sono anche lavori molto più recenti in particolare ok adesso consideriamo l'equazione di Hamilton-Giacobbi quindi in particolare prima considero l'equazione ergotica ne abbiamo visto varie volte oggi comunque ricordiamo l'equazione quindi considero un'equazione di Hamilton-Giacobbi Bellman ergotica all'interno dell'arco quindi le incognite sono v e ro il coster gotico e quello che è chiamato anche il correttore insomma la coppia v e ro quindi le equazioni sono definite all'interno degli archi ai vertici ho la condizione di Kirchhoff adesso notate che quelli che io ho chiamato pi alfa prima ecco lo vedete in basso sono dati da questa espressione quindi dipendono dal coefficiente di fusione e da questo parametro gamma i alfa che in qualche modo rimane libero quindi condizione di Kirchhoff ai vertici inoltre la continuità ai vertici quindi questa esprime soltanto la continuità ai vertici e una condizione di normalizzazione perché qui la soluzione è definita a meno di una costante la miltoniana è la classica miltoniana controllistica con dei coefficienti b alfa f alfa che diciamo dipendono dall'arco quindi non necessariamente possono cambiare da arco ad arco senza proprietà di continuità come vedremo questi coefficienti sono continui all'interno dell'arco ma non necessariamente continui su tutto il network quindi ogni singolo arco ha il suo problema di controllo ben definito e si raccordano questi problemi di controllo attraverso queste condizioni ai vertici quindi ok qui ho più o meno ridetto quello che ho detto a voce allora questo il problema precedente è associato a un problema di controllo di questi tipo appunto un problema di costo ergotico in cui il funzionale costo è dato da questa espressione questo è classico e la legge di controllo è una legge di controllo tipo feedback quindi valgono i principi di programmazione dinamica classici e si ottiene dal principio di programmazione dinamica si ottiene il problema precedente e in generale quando uno studia i problemi tipo ergotico è anche utile associare questa approssimazione mi viene il termine sconto come si dice in italiano un'approssimazione con un fattore di sconto positivo lambda che poi manderemo a zero in qualche modo per approssimare il problema ergotico e questo è associato a un problema di controllo confunzionale di tipo orizzonte infinito alcuni risultati preliminari quindi quel primo risultato è un teorema di esistenza per il problema diciamo sia per il problema con fattore di sconto che per il problema ergotico allora notate quindi queste sono ipotesi più o meno classiche nell'ambilatorio dell'equazione di Newton-Gio quindi ipotesi sui coefficienti quindi i coefficienti sono strettamente positivi e soddisfano quella condizione dei coefficienti che è richiesta da Kirchhoff e i coefficienti B alfa e F alfa sono limitati e con l'ipsis continuous nella variabile x allora sotto questa ipotesi si può dimostrare che esiste una soluzione C2 del problema con fattore con termini di ordine zero inoltre si ha un bound indipendente dalla costante lambda per la coppia lambda v lambda e anche un bound sulla norma c2 theta per v lambda meno la sua diciamo la media sul network entrambi le costanti sono indipendenti da lambda passando al limite per lambda e tende a zero otteniamo anche una soluzione del problema ergotico quindi lambda v lambda cioè questi sono risultati molto classici nel caso euclideo ma valgono anche nel caso del network ok questo è il risultato di dipendenza continua quindi nel risultato di dipendenza continua come vi dicevo considero due equazioni di Hamilton Jacobi Bellman con coefficienti differenti quindi ogni equazione avrà i suoi B I Alfa F I Alfa che soddisfano le ipotesi precedenti con le stesse costanti inoltre mi serve anche questo per ragioni tecniche questa proprietà di regolarità della miltoniana che è strettamente legato al fatto che darò una stima c2 quindi serve una proprietà ulteriore di regolarità della miltoniana allora quindi le stime di dipendenza continua se prendo W lambda che è la soluzione del problema meno la sua media sul network quindi in corrispondenza di ciascuna soluzione per ogni Hamiltoniana ho questa stima la differenza tra le soluzioni in norma c2 può essere stimata in termini della distanza dell'infinito tra i coefficienti del problema quindi prendo il massimo su ogni singolo arco e poi faccio il massimo sugli archi più questo termine aggiuntivo che appunto dipende dalla distanza fra la miltoniana se qui avessi chiesto una stima all'infinito questo termine non ci sarebbe stato qui è proprio legato al fatto della stima c2 poiché questa stima in realtà diciamo è indipendente questa costante qui che interviene indipendente da lambda per passaggio al limite si ottiene anche la corrispondente stima nel caso ergodico due risultati preliminari questi sono nuovamente dei risultati che in qualche modo sono classici nel caso glideo ma che vanno ridimostrati ogni volta nel caso dei network e questo è un principio del massimo la soluzione del problema omogeneo dell'equazione omogenea con le condizioni di transizione ai vertici e continuità tutte e sole le soluzioni sono funzioni costanti e un principio di confronto che è formulato in una maniera un po' particolare come vedete sui network quindi se l'equazione per v è più grande dell'equazione per u e anche le condizioni di Kirchhoff rispettano la stessa ordine di monotonia la stessa monotonia allora un principio di confronto sul network quindi posso dire che v è maggiore uguale di u ok vorrevo dare velocemente un'idea della dimostrazione ma veramente velocemente l'idea è che questo è anche un argomento abbastanza classico in questo contesto per provare questo tipo di risultati è modellizzato sul caso dell'euclideo e trasportato in qualche modo sul network a lambda pissato ho una stima a c2 quindi ho una costante che in generale potrebbe dipendere da lambda una stima immediata diciamo dal principio del massimo l'obiettivo è far vedere che la costante che mi consente di stimare appunto la differenza tra queste due funzioni è indipendente da lambda allora per assurdo invece assumo che questa la costante appunto diciamo che mi consente di stimare questa quantità in termini della distanza tra i coefficienti esplode quando per un'opportuna successione lambda k tende a 0 ricordate sempre che le v lambda sono la differenza tra la funzione e la sua media quindi mi scrivo l'equazione per la differenza quindi ok semplicemente avrò un termine aggiuntivo riscrivo il termine aggiuntivo diciamo sfruttando le proprietà di ricordata della miltoniana e arrivo a un'equazione lineare di questo tipo sfrutto le stime a priori uniformi in lambda che avevo il teorema di esistenza all'inizio e posso passare al limite in questo problema si dimostra che i coefficienti gk e rk passano al limite in partito gk tende a g per ogni per ogni arco rk tende a 0 e oltretutto appunto utilizzando la regolarità quelle proprietà quelle stime a priori che avevo dato nel teorema di esistenza passo al limite ottengo un problema limite questo è il problema limite quindi la vk che ricordate define a ck è semplicemente questa quantità ck è questo quindi passo al limite la vk deve soddisfare un problema di questo tipo ma so che le soluzioni di questo problema sono tutte e solo le costanti oltretutto poiché vk per la normalizzazione è uguale a 0 per ogni k anche v deve essere soddisfare questa condizione e quindi v identicamente 0 d'altra parte però per ogni k pissato proprio per normalizzazione ho che la soluzione soddisfa che norma c2 uguale a 1 e quindi ho una contraddizione quindi più che altro diciamo si riprende all'argomento classico e lo si adatta in maniera opportuna sul network e poi poiché la costante uniforme in lambda ho anche la stima del problema ergotico ok adesso descriverò le diciamo queste applicazioni queste due applicazioni che avevo preannunciato all'inizio la prima è questi sistemi minfield game quasi stazionari allora come ben sappiamo abbiamo visto varie volte oggi quindi minfield games sono giochi differenziari con una popolazione costituita da infiniti giocatori infinitesimali però un importante aspetto in qualche modo è che questi giocatori sono assunti essere completamente razionali che come vedremo hanno la capacità di prevedere il futuro cioè per un equilibrio di Nash in qualche modo il giocatore riesce a prevedere l'evoluzione futura e quindi appunto si dice è completamente razionale quindi è un'ipotesi che in molti contesti può essere troppo restrittiva forse ma è anche uno dei principali limiti della teoria minfield games e poi abbiamo l'effetto collettivo dato dalla distribuzione della popolazione in questo effetto minfield allora la teoria dei minfield games network abbiamo fatto un primo lavoro con Claudio nel caso stazionario e poi diciamo i risultati che avevamo fatto con Claudio che erano un po' legati anche a ipotesi un po' forti sono stati generalizzati da Ashdu Dao Lei e Chui due lavori il primo nel caso stazionario e il secondo nel caso evolutivo qui vedete il sistema minfield games definito su un network quindi su ogni arco abbiamo l'equazione di Hamilton Jacobi Hamilton Jacobi Bellman con termine di accoppiamento l'equazione di Fokker Planck sempre diciamo su ogni singolo arco allora per l'equazione di Hamilton Jacobi abbiamo le sue condizioni di transizione cioè Kirchhoff e continuità e condizione finale nel tempo per l'equazione di Fokker Planck abbiamo queste due condizioni quindi questa può essere interpretata come una conservazione del flusso ai vertici quindi questa esattamente esprime conservazione del flusso ai vertici e la densità non è continua ai vertici ma rispetta questa regola che in qualche modo mi dice una regola di come si distribuisce la popolazione che ha un vertice quindi avrà certe predilizioni per degli archi per certi archi o rispetto ad altri a seconda dei coefficienti gamma e alfa gamma e beta che appaiono nella condizione di Kirchhoff la cosa importante è che questo sistema scritto in questa maniera rispetta la struttura di dualità del caso euclideo e questo chiaramente è un punto fondamentale perché sappiamo che la struttura di dualità del caso euclideo ci consente di provare tutta una serie di proprietà di stima a priori o anche di unicità sotto condizioni di monotonia allora quindi questo ok il sistema precedente è in qualche modo associato a questo funzionale costo orizzonte finito in cui appunto c'è questa densità di popolazione che evolve quindi in qualche modo quando noi troviamo l'equilibrio appunto vediamo che qui quindi quando la coppia funzione valore distribuzione soddisfa il problema dei main field games vediamo che in qualche modo è come se la gente conoscesse tutta l'evoluzione futura della popolazione allora recentemente un articolo abbastanza recente Muzzini ha introdotto un problema un pochino differente che ricorda molto anzi direi che se uno lo scrivesse al primo ordine sarebbe esattamente l'equivalente del modello di Yux che è un altro modello molto conosciuto per lo studio di questi problemi di popolazione quindi prevede ad ogni tempo T la gente vede M di T quindi la distribuzione della popolazione al tempo T e suppone che questa popolazione non cambierà nel futuro quindi lui vede la sua distribuzione dice questa è la distribuzione al tempo T questa non cambierà più nel futuro e quindi io mi regolo in base a questa distribuzione quindi vedete che nel funzionale costo in qualche modo se uno lo scrivesse dovrebbe ok introdurre una dinamica aggiuntiva sul network lui in realtà risolve un problema in cui la distribuzione non cambia più col tempo ma rimane fissata a quella del tempo iniziale allora questo quindi questo diciamo Mozzunni l'ha studiato nel caso periodico nel caso clideo riportata sul caso del network si ottiene questo sistema sistema in field games in cui però l'equazione di Hamilton di Jacobi proprio perché è associata a un funzionale costo tipo ergotico è un'equazione stazionaria parametrizzata cioè la dipendenza dal tempo è soltanto in questo termine e quindi come se avessi una famiglia infinita di equazioni di Hamilton Jacobi parametrizzate da questi m di t da questa distribuzione mentre l'equazione di Fokker Planck è l'equazione standard con le condizioni ai vertici non cambiano quindi il punto è proprio questa equazione stazionaria che si accoppia con l'equazione evolutiva allora cosa cambia diciamo qual è la differenza dal punto di vista della teoria nel caso dei sistemi quasi stazionari rispetto al rispetto al caso classico per esempio se pensiamo un approccio di tipo classico per i sistemi di secondo ordine noi proviamo l'esistenza attraverso una mappa di punto fisso e per provare la continuità della mappa di punto fisso ci serve qualche regolarità della funzione valore rispetto al tempo che tipicamente viene da delle estime paraboliche che soddisfa un problema del secondo ordine qui queste estime paraboliche non possono essere ottenute perché l'equazione è stazionaria quindi piuttosto che utilizzare delle estime paraboliche per la funzione valore utilizziamo un risultato di dipendenza continua in fondo queste sono delle equazioni molto simili in cui cambia un coefficiente il coefficiente che dipende da questa misura m di t quindi noi prima quindi si stima v di t meno v di s in termini della distanza per esempio la distanza di Wasserstein fra m di t e m di s a questo punto usiamo in maniera classica l'equazione di Fokker-Planck per stimare questa distanza di Wasserstein e quindi riotteniamo una regolarità nel tempo della funzione valore quindi diciamo questa è un po' l'idea appunto scritta da Muzzini nel caso Glidee che poi abbiamo riprovato in questo caso dei network forse qui vado un po' più veloce quindi boh con questo lo salto direi ok metto in luce solo un paglio di punti interessanti un punto interessante se voi ricordate per esempio come viene fatta nelle note di Cardiola che anche Martino ha citato oggi tipicamente per provare la regolarità questa regolarità nel tempo della DM della distribuzione tipicamente si vede questa come la legge del processo associato all'equazione di Fokker-Planck si stimano le traiettorie del processo e streamando le traiettorie del processo utilizzando appunto il fatto che M è la legge del processo di dato iniziale M0 si ottiene una stima nel tempo qui diciamo sul network è più complicato perché il processo di diffusione di un network contiene quei termini addizionali sui vertici quindi riprodurre quel meccanismo diciamo onestamente essendo la nostra conoscenza di probabilità non eccelsa abbiamo trovato parecchie difficoltà allora abbiamo rifatto la stessa stima però in cui si sfrutta soltanto l'equazione evitando di passare il processo e questo potrebbe essere diciamo questo tipo di risultato anche utile in altri contesti quindi qui c'è la dimostrazione ma non è importante e ok questo è il teorema di esistenza quindi questo è il teorema in cui appunto proviamo esistenza e unicità della soluzione del minfield game come si sta azionando quindi dove le soluzioni sono quindi una coppia vro in cui ro è la costante ergotica parametrizzata da t ricordate le equazioni sono parametrizzate da t quindi ok la soluzione v e c2 ok c da 0 t in c2 gamma però quindi per ogni t fissato abbiamo una soluzione c2 e anche la costante ergotica è una funzione continua nel tempo mentre per la Fokker Planck abbiamo questa regolarità l'altra appunto cosa che volevo mettere in luce in questo caso è che a differenza del caso classico si ha unicità senza alcuna condizione di monotonia quindi si recupera direttamente l'unicità senza assumere la monotonia le classiche ipotesi di monotonia di last year proprio per la struttura del problema si recupera in questo modo l'unicità e diciamo qua adesso non fa però entrambi i risultati sia l'esistenza che viene fatta con punto fisso sia l'unicità che viene fatta con argomento diciamo stimando sostanzialmente questa quantità viene utilizzato in maniera fondamentale il risultato di dipendenza continua che abbiamo provato prima ok passo all'equazione appunto al problema di omogenizzazione su questa struttura tipo lattice quindi il nostro network adesso si estende all'infinito è dato da questa struttura questo è il caso bidimensionale ovviamente si ha questo risultato non è legato alla dimensione e definiamo funzioni periodiche su questo network perché vogliamo diciamo una struttura di periodicità nel problema allora sostanzialmente quindi funzioni periodiche vuol dire che le funzioni coincidono in qualche modo negli archi della stessa direzione quindi la funzione qui coincide una funzione che è periodica su questo lattice il valore diciamo la funzione su questo arco coincide con la funzione su questo arco e la funzione su questo arco quindi quando prendi una funzione definita complessivamente in qualche modo la funzione dipende soltanto dalle direzioni parallele agli assi quindi questa è la condizione quindi non può lungo una stessa direzione le funzioni coincidono lungo gli archi e quindi studiamo questo problema quindi di omogenizzazione cioè quindi consideriamo questo problema definito sul network dove la miltoniana ok questa è un po' struttura particolare in cui la dipendenza di x è separata dalla dipendenza del gradiente e assumiamo questa periodicità dei coefficienti di h cioè dei vari coefficienti inoltre che il f è periodico nella variabile veloce in x su y allora l'obiettivo è di passare al limite per y tende a z trovare il corrispondente problema su tutto rn quindi in particolare anche la miltoniana effettiva del problema su rn quindi il primo il primo punto è capire come è definita la miltoniana effettiva che sarà definita pensate noi abbiamo un problema definito su un network vogliamo passare a un problema definito su tutto rn allora questo è il problema di cella che definisce quindi prendiamo y uguale a 1 quindi studiamo il lattice con y uguale a 1 e consideriamo quindi prendiamo x la miltoniana effettiva dipende da x dal gradiente e dall'essiana quindi fissato x p e x e x grande consideriamo questo problema quindi vedete che le variabili x grande e p grande sono proiettate sugli archi del network e questo diventa il problema di shell allora si dimostra che esiste un'unica coppia v ro per cui questo problema mette una soluzione periodica e il ro è esattamente quello che definisce la miltoniana effettiva quindi la miltoniana effettiva uguale a meno ro dove ro è l'unico numero per cui questo problema mette soluzione si provano tutta una serie di proprietà di regolarità della miltoniana effettiva che servono affinché il problema effettivo è definito su tutto rn sia ben posto quindi per esempio delle proprietà di regolarità e anche per diciamo per poi passare al limite osservano delle proprietà del correttore dove il correttore è il v cioè quella funzione per cui questo problema mette soluzione il correttore ovviamente dipende da xp e x grande quindi abbiamo delle stime su questa diciamo sulla dipendenza di questi parametri ok poiché la miltoniana effettiva in effetti è conversa uniformemente littica e soddisfa queste proprietà diciamo risultati classici dicono che il corrispondente problema in tutto rn ammetto una soluzione classica addirittura c2 delta a questo punto si passa al limite e si ha questo risultato quindi ricordate la variabile veloce appariva soltanto nella f quindi se assumiamo che questo costo possiamo chiamarlo dipende cioè è Lipschitz rispetto alla variabile che è definita in tutto rn e anche rispetto alla variabile che è definita solo sul network con distanza di gamma e la distanza intrinseca sul network la distanza generica sul network allora la soluzione y tende a 2 e abbiamo questo rate convergence dove il delta quindi y calcolato sul network la distanza sul network perché la y è definita solo sul network gamma y possiamo stimarlo in termini di questa distanza dove il delta è quello della regolarità un minuto perfetto allora ci sono ok il problema sostanzialmente per quando noi andiamo a stimare questa distanza la u è definita in tutto rn e la u epsilon è definita invece solo sul network e noi in qualche modo vogliamo riportare trovare trarre per la u delle informazioni per come si comporta sul network allora quindi una prima osservazione è che i coefficienti per periodicità sono indipendenti dal verge e questo ok l'altra informazione importante è che una funzione definita su tutto rn e che sia regolare in qualche modo automaticamente soddisfa una condizione di Kirchhoff quindi a questo punto per una funzione regolare su tutto rn la condizione di Kirchhoff che è una condizione ai vertici del network è automaticamente soddisfatta quindi questa è una prima informazione importante e poi ok avendo questa informazione si segue il classico metodo della funzione test perturbata di Evans che ha introdusse per l'omogenizzazione di equazioni nel caso Euclideo l'unica cosa è che noi l'unico dettaglio delicato quindi si cercano dei punti di massimo di questa funzione test perturbata l'unico punto chiave è che questi punti di massimo non devono andare a finire nei vertici perché noi abbiamo nei vertici non abbiamo informazioni per cioè sostanzialmente vogliamo utilizzare l'equazione per stimare la distanza quindi se il punto di massimo dove andiamo a confrontare le due soluzioni andasse a finire su un vertice del network non avremmo informazioni allora sfruttando il fatto che una funzione regolare soddisfa la condizione di Kirchhoff una funzione regolare definita in RN soddisfa la condizione di Kirchhoff si arriva a una contraddizione e quindi a quel punto diciamo si procede in maniera più o meno classica infine in questo caso perché avendo questa dipendenza particolare separata dal gradiente e dalla X si può in questo caso particolare anche ottenere una espressione per la miltoniana infettiva che vediamo una sorta di media pesata con i coefficienti gamma k che appaiono nella Kirchhoff di la miltoniana definita su ogni arco quindi si prende la miltoniana effettiva sarà una media di questa miltoniana allora qui noi abbiamo utilizzato un lattice questo di tipo naturale squadrato però pensiamo che molti di questi risultati si possano portare anche sull'attice di tipo più generale ok domani penso che Antonio farà invece una teoria molto più generale di quella che ho presentato io per dove riprenderà questi tipi di risultati proprio su tipi di lattice molto più generale grazie ci sono domande commenti ma e questo risultato di unicità per il caso quasi statico vale diciamo era nell'articolo di Mozzuni sì proprio anche la tecnica di dimostrazione è una tecnica diversa che non usa questa struttura di dualità ma proprio si va a stimare la distanza e là diciamo anche lì interviene in maniera fondamentale la dipendenza continua sì quindi è abbastanza interessante perché in qualche modo l'unicità è gratuita senza ipotesi su un modello certo e un'altra cosa volevo chiedere questo sul tasso di convergenza dell'omoniginizzazione delta uguale a 1 si ottiene solo nel caso il delta si è legato in qualche modo questo parametro delta è legato è legato alla regolarità che tu hai nella miltoniana cioè questo cos'è e questa è la soluzione del problema effettivo tutto rn e hai una regolarità delta in qualche modo diventa da costanti del problema quindi sai che esiste un delta però non sai effettivamente quantificare il delta allora questa regolarità della soluzione del problema effettivo ti dà anche il tasso di convergenza che però è calcolato solo sul network in realtà diciamo però questo tanto alla fine il network invaderà tutto il caso di un'idea quindi in qualche modo arriva una stessa la struttura permette di avere unicità del mondo in game ma vuoi essere più preciso cioè qual è la qui dici nel caso quasi stazionario sì ma anche la prima volta che hai detto unicità a un certo punto diciamo dove c'era il teorema e il remark cioè il fatto che dici che cioè qui c'è gratis in altri contesti nel mio film abbiamo bisogno di monotonia esatto da quale tipo di struttura viene fuori no se c'è un qualcosa di più un'idea un po' più profonda da dove viene questa cosa diciamo pensare un attimo non se proprio modellisticamente non riesco dunque quale no così no diciamo qui c'è una regolarità non saprei darti una risposta dici che è difficile no sarebbe carino la cosa interessante è che se tu prendi questo proprio il quasi stazionario con viscosità zero è proprio yux quindi è strano perché per esempio mentre nel secondo ordine questo è ben posto e anche la soluzione è unica quando la viscosità zero yux è ben noto che è mal posto in ogni dimensione quindi però ecco questo effetto di unicità in realtà tu penso che anche sia legato un po' al fatto che la struttura disaccoppia un po' l'equazione nel senso che tu prendi una volta che hai una soluzione della poker plank questo automaticamente ha un'unica soluzione però no questo è anche vero nel caso no non te lo so dire ci dovrei pensare più a fondo ma così non riesco a vederlo sì è una domanda molto interessante no non c'è di mezzo qualche cosa qualche linearità da qualche parte qualcosa no perché c'è una la dipendenza qui è anche se già è quella più o meno classica insomma c'è un termine di potenziale di potenziale è proprio per come è fatto il problema nel qualche modo tu vai a stimare la distanza qui quando si fa l'unicità stimi questa quantità fai una sostanzialmente una serie di stime a priori riesci a dimostrare che con la dipendenza continua e questa diviene ottieni questa condizione automaticamente da Grombalt ti viene l'unicità non c'entra tanto che sei sul network no no questo risultato era di Mozzuni era di Mozzuni no 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 non è legato al network assolutamente era il risultato di Mozzuni che poi noi abbiamo riportato altre tecniche sul network posso dirti un'altra cosa veloce siccome hai detto a un certo punto che il difetto che generano i Miffin Game di questa cosa è degli agenti diciamo razionali ma se uno usa la Master Equation in realtà dovrebbe avere c'è così per come capisco anche dei dialoghi con gli economisti in realtà dovresti avere qualcosa che dipende non dalla conoscenza del futuro della densità ma solo di quello che succede oggi allora però non ho trovato granché di queste riflessioni su Minfield mi chiedo se diciamo io nei primi appunto anche nel primo lavoro quello su Paris Princeton di Lyons viene detto questa cosa proprio che negli equilibri la gente può prevedere in qualche modo una visione completamente e in effetti quando noi poi facciamo l'equilibrio forse ecco in qualche modo all'equilibrio la gente quando minimizza vede tutta l'evoluzione della popolazione quindi ha una conoscenza completa di come evolverà pensalo solo agli equilibri quindi quando ha già trovato l'equilibrio lui vede tutto come anche nel futuro cioè ha un generico tempo sa come evolverà la popolazione anche nei tempi futuri e in base a questo lui minimizza quindi negli equilibri lui conosce tutta l'evoluzione completa invece in questo modello no lui si basa soltanto sull'informazione presente guarda intorno e minimizza quindi questa è un po' la differenza sostanzialmente sì prego diciamo che il giocatore ha la capacità di calcolare conosce il controllo lo so che ha ok conosce con i dati che ha a disposizione di calcolare quale sarà la densità futura di calcolare non è che la sa beh la fortuna la riesce a calcolare però calcolare in che senso in tempo reale però lui per esempio ha un tempo usando degli strumenti matematici però dico se tu guardi il funzionale in qualche modo supponi che questo già sia il controllo sia ottimo no che lui ok dopo minimizzazione ok io la vedevo così se qui metti il controllo ottimo lui qua c'ha tutta la storia dell'evoluzione qui dentro lui metti se hanno di condizione o con il per le persone sono i soldi dicendo successiva se tu ti scompa la femmina era ottima io non è che fanno un'idea o si fanno un'idea mentre invece mentre invece nei giochi quasi stazionari sono più realistici cioè uno dice la densità è così adesso e io mi regolo come se rimanesse sempre così perché non ho il tempo di calcolarmi quello che succederà nel futuro in tempo reale cioè non è che la vede la può calcolare risolvendo un sistema di due però la sa in qualche modo cioè lui la sa sa che quelli che se tu sei là lui andrà a quella porta se lui sta là lui andrà a quella porta ma pensa di saperla io non ho detto che poi tutti si comporti in maniera ottima lui sa quello che succederà se tutti si comporteranno in maniera ottima ok però se non tutti si comportano in maniera ottima non è la previsione giusta quella però infatti i modelli di pedoni credo che sul libro di di piccoli come si chiama cristiani ah prioli cristiani quelle il libro oppure l'articolo no c'è l'articolo dicono che i modelli di pedoni sono realistici per i modelli di pedoni perché uno reagisce in base a qualcosa di più istintivo ok e non sa se gli altri si comportano in maniera tutti in maniera razionale è una differenza modellistica non sto banale da certi versi sono più realizzati ok ci sono altri commenti vedo altrimenti ringraziamo Fabio cominciamo con l'ultimo l'ultimo seminario della giornata di Andrea Davini dalla Sapienza e parlerà del on the vanishing discount approximation for compatibly supported per perturbation periodica Miltonian prego ok allora si sentite sentite va bene vorrei ringraziare gli organizzatori per questa bella iniziativa e naturalmente ringraziarmi per l'invito con grande piacere che sono qui e vi racconto alcuni risultati recenti ottenuti in collaborazione con Italo Capusto Dolcetta quindi a quale problema ci siamo interessati alla V presente il problema abbiamo un Hamiltoniano H che è periodico nella variabile spaziale X coercivo e convesso nella breve il momento P prendiamo un potenziale che è un supporto compatto e consideriamo questa funzione G questo nuovo Hamiltoniano che ha una perturbazione di H con questo potenziale consideriamo a questo punto questo problema con un fattore di sconto positivo CG è una costante una costante critica che definirò dopo è l'unica costante per la quale questa equazione che vedete qua può ammettere soluzioni limitate allora è un fatto ben noto che questo tipo di equazione sotto queste condizioni ha un principio di confronto forte sopra e sotto soluzioni limitate e quindi in particolare ammette una unica soluzione limitata che denoteremo con questo simbolo Ulanda G che cosa possiamo ah alcuni commenti su questa equazione critica allora una prima cosa è che questa equazione ammette sempre soluzioni queste soluzioni potrebbero non essere limitate cioè non è detto che queste questione qua ammetta soluzioni limitate e inoltre le soluzioni limitate o non limitate non sono uniche e questo anche a meno di costante additive in generale allora che cosa sappiamo invece sul problema con fattore di sconto abbiamo queste informazioni che le soluzioni sono equilibri sciiziane e sono e questo è un fatto diciamo abbastanza semplice da dimostrare e sono localmente equilimitate questo invece richiede un lavoro specifico quindi in particolare se sono moltiplicate per questo parametro lambda e lambda lo mandiamo a zero queste convergono uniformemente a zero e il trema di Ascoli-Azai ci dice che questa famiglia di soluzioni è una famiglia precompatta nello spazio di funzioni continue su R con la convergenza locale uniforme in particolare quindi si può estrarre sottosuccessioni convergenti quando si fa tendere lambda a zero queste sottosuccessioni convergono a qualche funzione e per stabilità della nozione di soluzioni di viscosità si sa che questa soluzione questa funzione U limite è una soluzione dell'equazione dell'equazione critica però dal momento appunto che l'equazione critica non ha soluzione unica non è chiaro a questo livello se diciamo questa funzione questa soluzione trovata dipende o meno dalla sottosuccessione convergente uno potrebbe convergere a limiti diversi secondo lungo sottosuccessioni diverse quindi ci sono posti la domanda se questo limite se questo limite esiste e la risposta la risposta è affermativa dietro abbiamo dato in questo lavoro con Italo abbiamo dimostrato che l'intera famiglia Ullanda G converge localmente uniformemente a un'unica soluzione UG0 di questa equazione critica quindi è un principio di selezione si soluziona una specifica soluzione al limite e abbiamo anche una caratterizzazione della funzione limite che è un tassello importante della dimostrazione allora qual è la motivazione per questo studio allora la motivazione per questo studio ha radici nel lavoro del preprint dell'87 di Lyons van Nicolaou e Varadhan in questo lavoro diciamo gli autori considerano un Hamiltoniano continuo sul fibrato cotangente del toro piatto di dimensionale che è corcivo uniformemente in P uniformemente in X e uno dei principali risultati che dimostrano è che esiste una unica costante tale che questa equazione ammette soluzioni di viscosità sul toro e questa costante CH è conosciuta come costante ergodica nella letteratura PDE oppure come costante critica di Magnet nell'ambito della teoria cambevole e diciamo questo risultato è dimostrato appunto passando a un problema con fattore di sconto quello che è noto come appossimazione ergodica e diciamo anche nel loro caso insomma alla fine si trovano soluzioni dell'equazione limite passando lungo sotto successioni convergenti quindi loro non si pongono il problema dell'unicità o meno del limite perché non gli serve vogliono dimostrare un risultato di omogenizzazione gli basta l'esistenza di una coppia di una costante di una soluzione di viscosità di questa equazione e questo gli permette poi di dimostrare l'omogenizzazione però la questione è naturale c'è una questione naturale cioè se anche in quel caso si può si seleziona un'unica soluzione del limite oppure no e la risposta l'abbiamo data in questo lavoro in collaborazione con Albert Fatih Renate Turiaghi e Maxine Zavidovic quindi abbiamo dimostrato che quando l'amiltoniano quindi definito sul periodo cotangente in una varietà compatta diciamo nel toro piatto bidimensionale è anche assunto convesso e si considera questa soluzione di questa equazione compatore di sconto allora tutta la famiglia converge a una unica una soluzione particolare insomma dell'equazione dell'equazione critica quindi questa diciamo è la motivazione per lo studio nel caso non compatto e dunque alcune osservazioni sì diciamo in questo lavoro questo lavoro qua menzionato abbiamo anche un risultato parziale nel caso non converso cioè abbiamo si fa vedere comunque un argomento piuttosto semplice che quando CH non è convesso non è assunto convesso se le costanti le funzioni costanti sono sotto soluzioni critiche allora si ha ancora convergenza questo perché c'è una monotonia insomma delle soluzioni Ulanda H quindi la domanda è capire era interessante capire se diciamo la conversità era una condizione necessaria oppure meno per noi era diciamo fondamentale degli strumenti che utilizzavamo perché abbiamo utilizzato gli strumenti della teoria camdebole e questi strumenti per essere applicati hanno bisogno della conversità della Miltoniano inoltre questo risultato parziale poteva suggerire che il risultato poteva essere ancora vero tra l'altro il lavoro di Lyons pari Nicolau e Varada diciamo è indipendente dalla conversità quindi l'esistenza di soluzioni a livello critico è un fatto indipendente dalla conversità però il fatto che non sia vero è stato dimostrato qualche anno dopo da Ziliot che ha costruito un controesempio di un Hamiltoniano non converso ma altrimenti standard in dimensione 1 quindi il fibrato cotangente del toro 1 dimensionale per cui questo limite non esiste quindi si trovano soluzioni diverse lungo sotto successioni convergenti differenti va bene il risultato che vi ho appena enunciato è stato dimostrato è stato poi esteso in varie direzioni negli anni successivi e qua ho riportato una lista non esaustiva di contributi quindi vari tipi di problemi però diciamo la cifra comune di questi lavori è che tutto è dimostrato nel caso di una varietà compatta tipicamente il toro piatto di dimensionale per quanto riguarda invece diciamo risultati nel caso non compatto c'è molto di meno quindi c'è questo risultato recente abbastanza recente di Ische e Siconolfi del 2020 in cui affrontano il problema per una classe di Hamiltoniane su RD diciamo su RD per RD abbastanza generali se guardiamo a questo esempio diciamo come esempio modello le condizioni che lo assumono è che F sia limitato dal basso ma non limitato dall'alto quindi diciamo G può anche andare a meno infinito quando X va all'infinito e inoltre diciamo il problema del compattore di sconto evanescente è studiato rimpiazzando il valore critico che noi consideriamo qui con questo meno l'inf tf e questa è quella che noi abbiamo chiamato costante critica libera costante critica libera F sta per free ed è il il livello più basso diciamo sotto il quale non si può andare sotto il quale non vivono sotto soluzioni di nessun tipo diciamo invece il valore qua che noi adottiamo in generale è maggiore o uguale di questo e poi sotto una condizione che in questo caso specifico corrisponde a richiedere che questo insieme è compatto poi poco prima di far uscire il preprint abbiamo scoperto di questo lavoro recente di Bardi e Cuckoo che poi nel frattempo è stato pubblicato in cui tra le altre cose dimostrano il problema appunto di insomma la convergenza quando il fattore di sconto tende a zero per questo per questo Hamiltoniano in qualsiasi dimensione in RD sempre con questa scelta di valore critico sotto condizioni su f nella casa f è limitata però la condizione sui minimi di f è più generale di quella nel lavoro sopracitato e poi se uno vuole andare indietro nel tempo c'è un altro lavoro precedente nell'88 di Capuzza Dolcetta e Menaldi e in un caso particolare non commenterò perché non ho molto tempo questo diciamo è uscito ancora prima insomma che la teoria candevole almeno come la conosciamo oggi fosse ancora stata formulata da Albertati benissimo allora una delle diciamo delle novità secondo me del nostro lavoro è innanzitutto il fatto che abbiamo è la nozione di costante critica che abbiamo scelto per studiare un problema in un ambiente non compatto perché tipicamente almeno a livello di teoria candevole quando uno prende una Miltoniano una realtà non compatta di QNRD si mette al livello più cioè la costante critica è definita come il livello più basso diciamo al di sotto del quale le sottosoluzioni non esistono e noi invece volevamo in qualche modo simulare quello che succede nel caso periodico dove invece diciamo le cose sono diverse e poi vi spiegherò perché allora quindi andiamo un attimo a rivedere la nozione di costante critica nel caso periodico ma nel caso periodico come ho detto la costante critica si può caratterizzare come l'unica costante per cui questa equazione mette soluzioni sul toro oppure equivalentemente se guardate l'equazione NRD cercate soluzioni periodiche e inoltre c'è anche questa caratterizzazione della costante critica il minimo valore A per cui esistono sotto soluzioni periodiche di questa equazione ora naturalmente cosa succede prendete fissate un vettore teta e definite questo nuovo Hamiltoniano dove avete fatto uno shift di questo vettore teta nella variabile del gradiente e cercate di risolvere un'equazione di questo tipo se state cercando soluzioni periodiche il problema cambia quindi la costante critica cambia diciamo dipende da questo shift infatti è noto diciamo che questa funzione è la funzione che associa a teta questa costante critica di h teta è conversa e coerciva si può definire un'altra costante critica che è quella appunto che abbiamo chiamato libera che è definita in questo modo che è l'estremo inferiore degli A per cui esistono sotto soluzioni di queste equazioni in R e D libera nel senso che non stiamo chiedendo non stiamo prescrivendo niente sulle sotto soluzioni a parte che sono lipschitz perché questo viene dal problema e non c'è nessuna richiesta si può dimostrare come un argomento abbastanza diciamo standard che questo inf è un minimo poi un'altra osservazione è che se voi prendete una soluzione di questa equazione U e considerate questa nuova funzione U di teta questa funzione è soluzione di questa equazione in R e D veramente non limitata ma quindi in particolare la costante la costante CF di H è più piccola del minimo di queste costanti critiche d'accordo? e per lo stesso argomento per lo stesso argomento che siccome potete sempre fare questo giochino la costante critica diciamo libera è insensibile all'ishift nella variabile del gradiente di un vettore teta non bene ok ah e questo risultato che è stato dimostrato per la prima volta da Fati e Maderna dimostra che fa vedere che in realtà questa costante CF è il minimo di queste costanti va bene questo per il caso periodico adesso vogliamo andare oltre il caso periodico quindi ci mettiamo in prendiamo una Hamilton generico G che è continuo in R per R che è scorcivo e convesso e facciamo la stessa cosa quindi consideriamo questa famiglia di questioni di Hamilton Jacobi definiamo la costante critica libera allo stesso modo di prima l'inf degli A per cui questa mette sotto soluzioni si dimostra facilmente che questo inf è un minimo e adesso diciamo per l'argomento già visto prima se io prendo qua siamo in dimensione 1 ma se io prendo θ in R e faccio uno shift di θ nel gradiente quindi definisco questo nuovo Hamiltoniano la costante critica non vede lo shift non è sensibile a questa operazione e noi volevamo invece definire una costante che come a livello periodico vede gli shift nella variabile del gradiente volevamo cercare di simulare una cosa del genere e quindi e questo sostanzialmente prendendo a prestito la definizione della teoria dell'omogenizzazione definiamo la costante cg come l'inf di valori a per cui questa equazione ammette sotto soluzioni limitate è chiaro che in questo contesto chiedere che ci sono sotto soluzioni periodiche non ha senso però si può cercare sotto soluzioni limitate e va bene questa definizione ha senso la prima osservazione importante è che questa nuova definizione ci restituisce l'oggetto che conoscevamo nel caso di ammette periodiche quindi se ho una ammette periodica se io qua la parola limitata sostituisco periodico ottengo lo stesso valore quindi questa è la proposizione diciamo che mi sta in proposizione seconda osservazione se io prendo il g generico come detto prima cg è l'unica costante per la quale un'equazione di questo tipo può ammettere soluzioni limitate e la proposizione è questa se avete una sopra soluzione limitata di un'equazione di questo tipo necessariamente ha il minore uguale di cg quindi poi se w è anche soluzione avete anche la disuguaglianza opposta e quindi avete uguaglianza ok va bene vediamo infine come si specializzano queste nozioni nel caso di nostro interesse quindi la perturbazione di un minore periodico con una funzione potenziale supporto compatto quindi uno ridefinisce la costante critica cfg e cdg c'è questa proposizione che la costante cdg è maggiore o uguale di cdh e cf di g è maggiore o uguale di cf di h e queste disuguaglianze possono essere strette quando non sono strette diciamo quando ho tempo di entrare nei dettagli anche di questo teorema voglio solo diciamo sottolineare il primo punto consideriamo questa equazione allora se cg è strettamente più grande di ch allora questa equazione questa equazione qua non ammette soluzioni limitate e in particolare cdh è cdh è lo stesso uno fa l'inf per le sottosoluzioni limitate con h però invece di essere cg e h h è periodico h è la militano periodico ok quindi questa ch è la costante di magnè che si può anche definire in maniera equivalente con sottosoluzioni limitate il g non è periodico quindi non avrebbe senso prendere sottosoluzioni limitate sì esattamente infatti è un processo di passaggio al limite perché alla fine all'infinito diciamo il g non vede la perturbazione di h tramite il potenziale perché questa è l'idea diciamo il fatto vabbè dopo prego meglio e questa idea è anche la dimostrazione di questa proposizione tra parentesi e va bene niente in realtà in questo caso in questo primo caso abbiamo anche dimostrato che in realtà cg è esattamente uguale a cf di g cioè vuol dire che abbiamo raggiunto il livello sotto il quale non si può andare quindi vuol dire che abbiamo preso un minitano periodico abbiamo sottratto un potenziale a supporto compatto è successo qualche cosa per cui diciamo la costante critica libera si è alzata quindi diciamo il va bene allora per diciamo raccontarvi quindi che cos'è che abbiamo fatto e anche quali sono le difficoltà di passare e difficoltà di passare dal caso compatto al caso non compatto e anche qual è l'idea che sta alla base del modello che abbiamo considerato oltre oltre al fatto che mi piacerebbe anche spiegare qual è il punto in cui la dimensione 1 entra in gioco perché tutto questo che vi sto raccontando in realtà si può fare in qualsiasi dimensione però ci sono almeno un punto diciamo cruciale in cui in dimensione superiore non lo sappiamo fare pensiamo che sia vero ma lo sappiamo fare allora quindi prima per fare tutto questo devo fare un breve riassunto di quello che si fa nel caso periodico quindi prendiamo Hamiltoniano definito sul privato cotangente del toro di dimensionale la coercività si rimpiazza con una super linearità senza perdita di generalità e il risultato l'ho descritto qua quindi c'è convergenza nel caso periodico nel caso compatto e qua ho aggiunto la caratterizzazione del limite nel caso periodico la soluzione limite cioè la soluzione che si attiene al limite UH0 è la sottosoluzione massimale dell'equazione critica di questa equazione qua per cui è soddisfatto questo vincolo cioè se io la integro contro una misura di Mader sul privato tangente di M questo è meno o uguale di 0 e questo per ogni misura di Mader quindi a questo punto vi devo dire che cos'è una misura devo definire cos'è una misura di Mader e prima di dirvi che cos'è una misura di Mader vi devo dire che cos'è una misura chiusa la misura chiusa è una misura di probabilità che vedifica queste due ipotesi la prima è un'ipotesi di integrabilità e la seconda è la condizione che ha a che fare col fatto che sia chiusa questa misura quindi prendiamo la funzione c1 definita sul toro calcoliamo il differenziale lo applichiamo a q integriamo questo numero facendo variere di xq rispetto alla misura mutilde e questa integrale è uguale a 0 perché si chiamano misure chiuse? perché sono una generalizzazione della nozione di curva chiusa io se ho una curva assolutamente continua e chiusa mi posso associare a una misura una misura d'occupazione che è definita per dualità integrando funzioni continue e limitate su tm lungo la curva e poi dividendo per il periodo in modo da avere una misura di probabilità la prima condizione è verificata e corrisponde a dire che la curva è assolutamente continua per quanto riguarda la seconda condizione facciamo il conto prendiamo la funzione di fi di classe c1 quindi scriviamo questo e allora in questo dato specifico diventa 1 su t integrata 0 e t diventa questa cosa e questa cosa che cosa è la derivata di fi lungo gamma e quindi il teorema fondamentale è il calcolo integrale e quindi questo è uguale a 0 perché gamma t è uguale a gamma 0 ok quindi questa è la nozione di quindi questo è il collegamento tra le misure chiuse le curve chiuse e qual è il teorema fondamentale della teoria camdebole uno dei teoremi fondamentali della teoria camdebole è che se io prendo la grangiana che è associata per dualità alla miltoniana qua mi serve la super linearità di h e lo integro su tm rispetto a misure di probabilità chiuse l'inf è un minimo e il valore del minimo è uguale a meno ch dove ch è la costante di magnè e le misure di madre sono semplicemente le misure di probabilità chiuse che sono minimizzanti che minimizzano che risolvono questo problema variazionale ok 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 quindi come funziona la dimostrazione allora vogliamo dimostrare quello che ho detto allora sappiamo che queste funzioni Ulanda H sono una famiglia diciamo precompatta in CR quindi prendiamo una successione di landa N che va a zero e a meno di stare sotto successioni sappiamo che convergono a una soluzione U dell'equazione critica vogliamo dimostrare che U coincide con questa con questa funzione che è il limite che ci attendiamo quindi primo passo è dimostrare che U è meno o uguale di UH zero e questo lo lo salto perché diciamo è la parte facile e poi dobbiamo dimostrare la parte difficile la disuguaglianza opposta allora com'è che abbiamo fatto a dimostrare questa disuguaglianza opposta abbiamo utilizzato quindi per il caso compatto la seguente formula di rappresentazione quindi il valore della funzione di valore U landa H e il punto X si attiene minimizzando questo integrale gamma è una curva che è definita tra meno e infinite zero e che al tempo zero arriva in X quindi qua la calcoliamo no? l'azione della grangiano più la costante critica moltiplicato per questo peso e quello che si può dimostrare è che questo info è un minimo il minimo è atteso da curve di Lipsitziane la costante di Lipsitz di queste curve può essere limitata dall'alto da una costante alfa che si può scegliere indipendente dall'unded da X e allora l'idea per risolvere il problema è stata quella di associare a ciascuna di queste curve minimizzanti una misura di probabilità quella di probabilità che potremmo chiamare diciamo scontata discounted sarebbe in inglese e come si fa? si prende si integra una funzione continua illimitata sul Tm lungo la curva gamma gamma punto si moltifica per questo peso che si integra tra meno infinito e zero questa è una cosa ben definita si può dimostrare con una misura di probabilità e a chi ci serve questa misura di probabilità? beh diciamo la prima proposizione cruciale è questa che se io la prendo una sottosoluzione critica quindi dell'equazione limite H uguale a C H allora per ogni x e lambda vale questa disuguaglianza dove questa è la misura che è associata alla curva minimizzante relativa alla che fa funzione ok e a questo punto seconda proposizione cruciale si sfrutta il fatto che queste misure di probabilità hanno il supporto contenuto in un compatto comune che il toro è compatto e poi abbiamo visto che le velocità delle curve sono limitate in modulo da una costante indipendente dall'and e da x quindi si possono estrarre sotto successioni convergenti quando mandiamo l'and a 0 e le misure di probabilità che si ottengono al limite sono misure di mother e a questo punto è finita a questo punto è finita perché uno può passare al limite in questa relazione il primo termine converge a u e qua a meno di passare sotto successioni convergerà a una misura di mother e a questo punto se la sottosoluzione critica soddisfaceva anche questo vincolo l'integrale era meno uguale di 0 contro ogni misura di mother questa integrale è negativa col segno meno è positivo quindi udx è maggiore uguale di vdx e quindi otteniamo otteniamo alla fine il risultato ok quindi l'idea sarebbe uno vorrebbe fare provare a ripetere in qualche modo diciamo questo schema di dimostrazione nel caso non compatto la compattezza però del toro è stata fondamentale qua quando si passava per la compattezza delle misure quindi vediamo quali sono le difficoltà nel caso che ci interessa la difficoltà è essenzialmente una che c'è effetti di dispersione della massa all'infinito quando si considerano la misura di probabilità e la prima difficoltà è innanzitutto l'estensione della teoria di mother al caso non compatto allora estendere la nozione di misura chiusa al caso non compatto non è molto difficile l'unica cosa che c'è da fare è richiedere che la derivata delle funzioni test c1 su r sia anche limitata e poi si può anche dimostrare questa teorema che se consideriamo il lagrangiano che è associato per l'olità g e facciamo la minimizzazione ah sì misure chiuse esistono basta che prenda un punto prenda la coppia x0 la delta di dirac concentrata nel punto x virgola 0 è una misura chiusa quindi si può fare questo inf rispetto alle misure di probabilità chiuse e questo inf è uguale a meno cfdg ora qua notiamo una prima differenza questo vale in qualsiasi dimensione una prima differenza la prima differenza è che quindi le misure minimizzanti di mother esistono solo al livello cfg al livello più basso che si può trovare quindi per esempio non danno indicazioni a livelli intermedi quando io prendo cdg cdg in generale è maggiore o uguale di cfdg e la seconda cosa è che per il fenomeno per il problema quello scritto questo inf in generale non è un minimo è un minimo in dimensione 1 e questo perché perché in dimensione 1 vale questo teorema che la costante critica è uguale a questa formula quindi per ogni x minimizzate rispetto a tg e poi ne prendete il sup rispetto a x in questo caso il sup è un massimo perché g è una perturbazione con una cosa a supporto compatto in un ambientale periodico in x in particolare l'insieme degli equilibri è un insieme non vuoto e se io prendo un punto di equilibrio e considero la delta di Dirac associata alla coppia y0 questa è una misura di probabilità chiusa e si dimostra facilmente che è una misura di mother quindi in dimensione 1 diciamo la misura di mother c'è in generale in dimensione superiore non si ha questa uguaglianza e si ha un maggiore o uguale la disuguaglianza può essere stretta e poi il secondo problema che si ha è appunto per quanto riguarda le misure le misure associate al problema con fattore di sconto anche in questo caso se uno va a guardare l'equazione l'equazione con fattore di sconto ha questa formula di rappresentazione per la soluzione anche in questo caso l'inf è un minimo e il minimo è realizzato su curve di sciziane con una costante di scizia che si può limitare indipendentemente dall'anda e da x anche in questo caso si può definire una misura diciamo scontata e se ancora una volta la disuguaglianza si serve nel caso compatto o perlomeno se io prendo una v che sia una sottosoluzione limitata dell'equazione critica associata a g però il problema è che il passaggio finale che era quello di passare al limite qua sulle misure con fattore di sconto non si può non si può fare perché perché manca la compattezza della 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 varietà della varietà insomma sottostante di r quindi visto la mancanza di tempo mi piacerebbe anche dirvi com'è che abbiamo ovviato al problema dovrei però diciamo presentare molto rapidamente diciamo i tre casi da considerare ci sono tre casi da considerare il primo quando il cg è estremamente più grande di ch il secondo quando il cg e ch coincidono e ch è più grande di cfh oppure quando tutte e tre queste costanti coincidono allora nel primo caso nel primo caso quello che si riesce a dimostrare è che la costante critica di g è uguale alla costante critica libera quindi voglio dire che abbiamo raggiunto siamo al livello più basso oltre il quale non si può andare in questo caso si può dimostrare che esiste un insieme compatto che contiene il supporto di v è una sottosoluzione limitata dell'equazione critica che è uniformemente stretta fuori dal compatto cioè che verifica questa disuguaglianza quasi ovunque in r meno k dove delta è un numero positivo fissato che vale in tutto il complementare di k questo ha come conseguenza che quando voi andate a calcolare quanto è il la misura di questo insieme r meno k per r con le misure diciamo di probabilità associate al problema con fattore di sconto queste cose tendono a zero quando landa da zero quindi questo vuol dire che queste misure sono tight questa famiglia di misure di probabilità in particolare sono precompatte in pdr per r quindi in questo caso si può procedere esattamente come nel caso periodico cioè non c'è il fenomeno di dispersione di massa all'infinito e il risultato che si ottiene è esattamente l'analogo di quello che va nel caso nel caso nel caso compatto cioè che la stessa formula e la dimostrazione è pure la stessa sostanzialmente l'unica differenza è che questa soluzione in limite in questo caso è coerciva non è limitata è coerciva questo tra l'altro questa parte di dimostrazione vale in qualsiasi dimensione e con piccole con modifiche minori ed in questo caso è simile in spirito a quello considerato da Ischersi Conolfi nel loro nel loro lavoro loro considerano una classe molto più generale delle tecniche diverse nel senso che introducono queste misure le misure di madre le misure associate al problema con fattori di sconto in maniera stratta quindi senza fare senza andare a guardare le curve e però il motivo per cui alla fine ottengono il risultato è che perché anche loro hanno tightness delle misure quindi è quello cioè anche loro hanno una proposizione del tutto analoga a questa anzi nel loro caso la sottosoluzione è anche costante al di fuori del compatto e ok invece il caso diciamo nuovo sono i casi due e tre adesso adesso termino volevo solo spiegarvi diciamo almeno intuitivamente che cos'è che succede e quindi anche spiegarvi qual è la motivazione per cui siamo messi a assicurare questo problema allora abbiamo siamo nel caso in cui CG e CH coincidono quindi le chiamiamo C per semplificare un po' di notazioni abbiamo queste due formule di rappresentazione per la soluzione del problema associato ad H e del suo problema associato a G e quello che sappiamo è che il problema periodico converge e Wanda H converge a una qualche funzione ora che cos'è che succede qua allora se voi andate molto se prendete il punto il punto X lo prendete molto lontano dal supporto di V la curva minimizzante si muove a velocità limitata con una velocità al massimo alfa alfa indipendente da X dall'anda quindi ci metterà un certo tempo ad arrivare nel supporto di V se voi state partendo da molto lontano e quando arriva nel supporto di V diciamo il contributo che dà la curva cioè il fatto la curva quando sta nel supporto di V questi due miltoni da grangione sono differenti però il contributo è piccolo quindi al di fuori di palle molto larghe un lambda G e un lambda H sono quasi uguali ok diciamo il vuol dire quanto larghe R su lambda con R scelto opportunamente quindi qual era l'idea l'idea è che volevamo sviluppare una teoria candevole in un caso non compatto fosse il più semplice possibile da immaginare il più semplice possibile è perturbazione di un avvento periodico con una cosa sul porto compatto perché l'idea è questa cioè qual è il problema nel caso non compatto di definire l'obbria all'infinito cioè c'è qualcosa all'infinito che succede che non è stato ancora ben capito nel senso si state date delle diciamo formulazioni ma essenzialmente diciamo operativamente non è mai stato utilizzato queste teorie per risolvere un qualche problema quindi l'idea era all'infinito un lambda G un lambda H sono uguali diciamo se uno riuscisse a definire un obbria all'infinito al finito conta l'eventuale insieme di obbria che si può generare da G insieme di madre insieme di misure minimizzanti e quindi voleva essere un quindi controllando cioè con questi due ingredienti uno voleva si aspettava la convergenza e si aspetta anche che la soluzione di limite dipenda anche da quello che fa il problema non perturbato il problema con l'ambituale periodico e in effetti è quello che è venuto fuori e c'è un punto in cui centro la dimensione 1 io sono a 35 minuti non so se volete mi date ancora due minuti vi dico rapidamente qual è stata l'idea l'idea è stata questa l'idea è stata questa appunto uno definisce una misura associata al problema con un fattore di sconto nel seguente modo in questa curva minimizzante più l'alanda G qual è l'idea? l'idea è di scomporla scriverla come combinazione conversa di due misure quindi uno sceglie una palla molto grande che contiene sia x il punto in cui arriva la curva che il supporto di v e scrive la misura come combinazione conversa di due misure di probabilità una la prima ha supporto contenuto in questo compatto quindi è br per b alfa e la seconda invece nel complementare sostanzialmente come si può fare se qua θ è uguale a 0 potete scegliere quello che vi fa più piacere se θ è diverso da 0 la potete definire in questo modo quindi la stessa formula di prima solo che qua state solo considerando i tempi in cui la curva sta all'interno della palla di raggio R e analogamente potete definire la misura di secondo tipo in questo modo quindi se θ è uguale a 1 θ x lambda è uguale a 1 qua avete libertà di scelta se invece θ è diverso da 1 la defida in questo modo e allora qua qual è il punto il punto è che le misure di primo tipo hanno supporto contenuto in un compatto comune quindi queste convergeranno lungo sotto successioni mentre le misure che sono di secondo tipo non vedono la perturbazione di A praticamente il potenziale perché il supporto è in R per meno br e il supporto è contenuto in questa palla quindi l'idea è che uno qua può sfruttare la compattezza che è nascosta nel modello e quindi cosa facciamo proiettiamo dal piberto tangente di R al piberto tangente del toro consideriamo il push foro di queste misure queste sono delle misure su T1 per R sono delle misure di probabilità e qua si ha compattezza e a questo punto diciamo il teorema è questo facciamo tendere lambda n a 0 se θ x lambda n tende a θ che è estremamente positivo e le misure di primo tipo tendono a una misura di probabilità allora in realtà cg uguale a cf di g quindi siamo al livello più basso e mi tilde 1 è una misura di mother per g se invece il limite il θ limite è minore di 1 e questo non è un e o o e il qua c'è convergenza in questo spazio in questo spazio di misure di probabilità quindi il push forward delle misure di secondo tipo converge a una misura di probabilità in T1 per R allora cg uguale a ch e questa misura limite è una misura di mother per h e qual è il punto critico di questa dimostrazione è provare che queste due misure mu 1 tilde e mu 2 tilde sono chiusa e questo è ok se vale questa cosa cioè se diciamo se il numero potete pensare che la curva gamma x lambda sia trasversa alla palla di raggio R non è questo il punto se il numero di intersezioni moltificato per lambda cioè intersezioni col bordo della palla va a 0 quando lambda va a 0 ok si riesce a dimostrare questo in qualsiasi dimensione e noi sappiamo farlo in dimensione 1 perché vale questo risultato che in dimensione 1 la curva ottimale per lambda g di x è monotona quindi in particolare una volta che esce dalla palla di raggio R non ci può più tornare indietro però in dimensione superiore non c'è lo stesso risultato però cos'è che potrebbe andare storto che ci sono queste cubre minimizzanti che vanno molto lontane e tornano indietro sempre più lontane e tornano indietro e lo fanno un numero crescente di volte quando lambda va a 0 ora io non ci credo che questa cosa succeda soprattutto se la grangiano è periodico più cosa su portocompatto però non ho non abbiamo un argomento per escluderlo e con questo vi ringrazio per l'attenzione e aspettate per il ritardo ci sono domande la prima è se si riesce a togliere l'ipotesi di periodicità cioè se la perturbazione viene fatta una miltoniana in R meno un qualcosa anche a supporto compatto o si riesce a lavorare comunque senza la periodicità la periodicità ci serviva per recuperare l'informazione all'infinito era quella la sfida ok se prendo una miltoniana generica si non lo so se prendo una miltoniana generica a quel punto non lo so non ci abbiamo pensato a questa cosa però diciamo a me personalmente piacerebbe finire di capire il caso multidimensionale però diciamo hanno il punto la seconda domanda invece nella nuova definizione di costante critica chiedendo le bounded solution anche questa ha un'interpretazione variazionale o è strettamente legata all'effetto PD che state guardando diciamo che dal punto di vista della teoria candebole per esempio esclude in certi quando c'è la sottosoluzione stretta che tu prende informazioni dall'infinito cioè diciamo sì il fatto che sia limitata pone un vincolo dal punto di vista della teoria si potrebbe fare la teoria candebole con soluzioni limitate o almeno limitate dal basso e questo vorrebbe stiamo lavorando diciamo discutendo ora un po' con Albert diciamo in dimensione 1 alla fine quello che viene fuori nello studio è che in un caso c'è un punto all'infinito c'è un obbligo all'infinito cioè diciamo se uno toglie la restrizione di soluzioni limitate soluzioni qualsiasi uno c'ha sempre l'obbligo sia in dimensione 1 sia a meno infinito che a più infinito se uno mette questo vincolo c'era solo uno almeno in un caso in un caso 2 a seconda di grazie l'insieme di obbligo è anche un insieme di unicità per il problema ergotico e in questo caso quando c'è un obbligo all'infinito che cosa vorrebbe dire per scrivere un valore perché perché in un caso non compatto l'insieme di obbligo è stata ovviamente l'insieme di obbligo al finito vale solo al livello libero ma al livello superiori e non è più un insieme di unicità perché l'informazione potrebbe provenire da infinito e non ti basta sapere cosa succede sull'insieme di obbligo e dico non potresti in qualche modo prescrivere un'informazione all'infinito si può prescrivere un'informazione all'infinito a quel punto diventa un insieme di unicità però non è che è proprio un punto è fatto con le soluzioni c'è una compatibilizzazione fatta con le soluzioni le sottosoluzioni certo perché comunque in dimensione 1 in qualche modo hai anche una direzione verso per esempio si può dare in dimensione generica la prova ma è stato già fatto ha fatto Contreras e l'ha fatto anche Ishi e Mitake c'è un lavoro in cui sono queste barriere insomma mettono lo fanno tramite funzioni che partono dalle soluzioni e quello che succede è che si può scappare all'infinito lungo delle curve minimizzanti e si utilizza un argomento che le soluzioni che si ottengono si chiamano soluzioni di Buse perché si utilizza un argomento che era noto di Buse grazie a tutti grazie a tutti